corti, come fu ricordato, studiando freneticamente da privatista, entrando all'università con l'ambizione di studiare filosofia, le sue prime pubblicazioni furono di questo genere, avviandosi poi, come sapete, allo studio della storia sotto la guida di Carlo Morandi, il maestro di cui pubblicò rigorosamente gli scritti, con la sua attività di studioso e di editore di testi da questo punto di vista è assolutamente eccezionale, e vi maturò all'ombra di maestro venerato come Luigi Russo, come lui siciliano, e da cui prese questo desiderio e questo modello della libera espressione aggressiva, anche senza filtri, delle proprie opinioni su questioni di battute, del polemista, dell'incomparabile polemista Luigi Russo, come ne ritroviamo appunto le tracce nei suoi interventi sulla propria rivista e in generale nella pubblicistica di cui fu autore. ricostruimmo in seguito il suo percorso intellettuale, sapemmo di come in una scuola normale, in un'università di Pisa totalmente fascistizzata, lui facesse parte di questo piccolo gruppo di studenti liberal socialisti all'ombra appunto di un maestro del pensiero liberal socialista che allora insegnava appunto all'università di Pisa e si riuniva con gli altri in una specie di ridotto serale in un luogo che si chiamava Le Sellerie Serani, in via del Carmine a Pisa, sotto la coperta di libere discussioni, c'erano delle ragazze, c'erano appunto dei giovani, dove in realtà si dibattevano opinioni politiche. Quel luogo è stato segnalato nella toponomastica della città di Pisa con una targa apposita che ricorda appunto a quegli incontri, la memoria civile si è dimenticata di quel tipo di antifascismo, non se ne sono dimenticati i fascisti ancora esistenti perché ripetutamente e anche quest'anno quella targa è stata eliminata materialmente, di notte naturalmente, per cancellare le tracce di quella che fu allora la rinascita democratica e civile del paese a cui Armando Saita non mancò. Aveva come maestro di libertà naturalmente il senatore, come lui lo chiamava, il senatore Benedetto Croce, ricordò come lo avesse incontrato, fosse andato a riverirlo come giovane studente nel corso di un viaggio trappisa la sua Sicilia e si ricordò di quel maestro di libertà quando in un incarico di insegnamento che svolse negli anni, nei primi anni 40 all'Istituto Magistrale Privato di San Miniato dovete assumere il compito di diciamo pro direttore perché il direttore fascista era fuggito il 25 luglio del 43 e nel diario di quell'istituto l'inconfondibile grafia di Armando Saita si legge ancora è stato esposto in una mostra non molti anni fa, si legge ancora in una frase in cui dava un viatico ai professori dell'istituto e diciamo ricavava lezioni da quello che stava accadendo e si rivolgeva a loro con una citazione finale che era tratta dall'opera di Croce siate e sentitevi liberi, questa idea della libertà che aveva in mente e che praticò ininterrottamente nel corso della sua vita. Quindi ricordare il Saita che noi incontrammo vuol dire ricordare la persona che arrivava da protagonista nell'ambito non soltanto dell'università ma della scuola grazie alle sue pubblicazioni e grazie a quel manuale che allora non fu un normale manuale scolastico ma fu una rivoluzione dell'insegnamento in un rapporto tra università e insegnamento che a Saita è stata sempre a cuore e a cui dedicò anche la rivista a cui dette vita, critica storica, che doveva essere proprio questo, cioè un tramite diciamo tra lo studio della storia, il suo insegnamento, capace di unire ambienti che allora erano infinitamente più vicini comunicanti di quanto non siano adesso, un livello di dignità e di rispettabilità anche civile che oggi non è più noto diciamo a chi fa l'insegnante nella scuola media e che sparisce ormai dall'orizzonte anche per chi diciamo arranca negli ambienti delle nostre università, dove i professori godono di molto minor libertà di quella di cui allora, di molti minori poteri di quelli che allora erano nelle mani dei professori, quel gruppo ristretto di docenti a cui Saita si ascrisse, di cui entrò a far parte e che potevano diciamo scegliersi i loro collaboratori, i loro assistenti, gestire diciamo il loro istituto, dirigerne le sorti. Penso che appunto ci vorrebbe un saggio di carattere antropologico per ritornare a vedere ancora con i suoi difetti e con i suoi pregi quella università di allora per riflettere sui cambiamenti che sono intervenuti e che non sono stati cambiamenti favorevoli al crescere nelle vene del paese di un sangue migliore, ad aprire le coscienze del paese in maniera diversa e maggiore di quella che allora c'era. Leggevo i dati riportati da Sabino Cassese nel suo editoriale di ieri sul Corriere della Sera, sono dati che devono fare riflettere. Questo paese è arretrato perché non riesce, anzi ma sulla strada proprio del diventare più maturo, del diventare più colto. La scuola, l'università e la storia con essi godono cattive condizioni. Non posso andare oltre su questa strada come sarebbe opportuno, visto anche la provocazione di Maria Antonietta, quello che penso della condizione della storia. L'ho scritto più ampiamente in un livello recente, amaro, come amaro per forza il sapore che si ha in bocca quando si deve guardare al paese Italia oggi, con le notizie quotidiane che ci fanno rabbrividire e con i dati dell'ignoranza collettiva e delle false rappresentazioni che si muovono nella testa degli italiani, senza che noi riusciamo ad arginarle con una scuola all'altezza delle necessità. Ma per dedicare invece a Saita ancora qualche minuto di questi che io sto consumando rapidamente, e bisognerebbe dedicargliene molti, bisogna a questo punto appunto ricordare come la sua attività si svolgesse fin da allora su più piani. Quel manuale scolastico che evocavo fu, dicevo, una vera rivoluzione e come tale fu accolto, perché le proteste, gli inviti a non usarlo, dove lo scommodarono perfino la civiltà cattolica nei confronti di un docente che passò allora, curiosamente, per marxista e come tale fu giudicato, solo perché al posto della storia dinastica e delle battaglie aveva introdotto la storia della società, dei rapporti delle classi, delle rivoluzioni che avevano reso il cammino umano, così detto troppo al manuale, un cammino verso la libertà, e in questa maniera ci fu un equivoco immediatamente, è vero, dovuto alla retratezza italiana, alla retratezza della battaglia politica italiana, alle difficoltà dell'università che risorgeva dagli anni delle leggi razziali, senza avere risolto il problema del ritorno degli esiliati, ci fu soltanto il caso isolato appunto di un ritorno di un docente importante all'università di Firenze, ci furono i processi di defascistizzazione, è vero che l'ambirono anche come è stato scoperto di recente la figura di Delio Cantimori, l'anziano che fu decisivo per Saitta, con il quale Saitta ebbe un rapporto filiale di dipendenza intellettuale fortissima, a cui dovette anche, come dire, il compito di dirigere il movimento operaio, una rivista che sotto la sua direzione svolse un compito fondamentale in anni ribollenti, negli anni intorno ai fatti d'Ungheria, intorno alla crisi del Partito Comunista, e Saitta non si ritirò mai davanti a compiti di battaglia. Ora, diciamo, lo sviluppo dell'opera sua, che passò da Pisa, lambì la scuola normale, dove trovò appunto allievi, devoti, persone che seguirono il suo insegnamento, di questo plotoncino, questo piccolo gruppo di allievi che Saitta ebbe allora a Pisa, io sono uno dei sopravvissuti, devo appunto rivolgere il pensiero a Regina Pozzi, che insieme a me curò quel piccolo libro che gli volevamo mandare come sogno di affetto e che fu naturalmente ricambiato come Saitta era, per la sua generosità, con ringraziamenti assolutamente eccezionali, vero? E con una gratitudine affettuosa che ci scaldò veramente il cuore. Io ho questa dimensione degli affetti. Permettetemi di citare soltanto un episodio. Io mi ero appena laureato con lui, avevo imparato da lui, collaborando con le sue iniziative editoriali, vero? Come si poteva redigere una scheda, come si poteva fare una recensione, ma aveva un rapporto di totale, come dire, dipendenza, immaturo come ero. Ebbene, insomma, era un suo studente, laureato da poco, e nel novembre del 1966 l'alluvione di Firenze, diciamo, tagliò i nostri rapporti, ci troviamo isolati, ci fu il problema della Nazionale di Firenze, ma ci fu il problema dell'alluvione che dovunque colpì, e lo lasciò il segno. Ebbene, io una sera di quel novembre, in una casa, tornato a vivere nella casa dei miei genitori, mi sono visto arrivare Armando Said, portato in macchina da un comune amico, che voleva sapere come stavo e si preoccupava per la mia sorte e temeva che avessi avuto dei danni dall'alluvione. Un ricordo che mi fa sempre piacere risvegliare, perché mi dice di che cosa ci fosse di speciale nel rapporto di Said come docente, con gli allievi, con i collaboratori. C'era una, diciamo, disponibilità immensa, di carattere emotivo, personale, non c'era nessuna riserva di, diciamo, come dire, di distanza, vero, tra lui e noi, e quando questa cosa si rivelava, poi si diventava semplicemente degli amici. Cosa che mi accadde nella seconda parte della mia attività, quando ho tornato Armando Said all'Istituto Storico per l'età moderna e contemporanea, si lasciò alle spalle l'università con senso di nausea, di disgusto, la svolta del 68 lo ferì profondamente, non risparmiò le sue critiche, le scrisse addirittura nell'ultima versione del suo manuale, costringendo un disonesto editore a modificare il testo senza dirglielo e dandogli quindi l'occasione di portare in tribunale l'editore per, diciamo, rinfacciargli un errore gravissimo in un paese che di questi errori è capace di farne parecchi, come sempre vediamo. Ora, tornato all'Istituto, era tornato alla sua giovinezza e la quantità di impegni che prese allora si esita a elencarli. Io ricordo soltanto che l'Istituto fu allora un luogo di incontro di storici di tutti i paesi. Said approfittò della scomparsa di Francisco Franco per ristaurare con la Spagna, con la cultura spagnola, rapporti immediati. La sua casa, la sua casa romana e il suo istituto furono la sede dove incontrammo personaggi straordinari dell'esilio antifranchista, ma anche degli studiosi che intanto erano maturati in Spagna nei rapporti con l'Ecole Pratique, dove i studiosi spagnoli andavano a cercare libertà e aprì allora il suo orizzonte di guida degli studi al campo dell'inquisizione, progettando un immenso progetto, quello dell'onomasticon dell'inquisizione, di cui restano ancora, come Marcello Verga mi ha assicurato, nelle stanze dell'Istituto di Storia Moderna, vero i pacchi di schede da lui commissionati, un progetto che non poteva realizzare perché mancava allora il computer, ma quando arrivarono nuovi strumenti, sono stato lieto di averlo ripreso, di averlo potuto portare a termine con l'aiuto del volontariato degli studiosi, il volontariato degli studiosi fuori da ogni vincolo di dipendenza, vero di dovere, come sarebbe piaciuto ad Armando Saita. Ma non è solo questo, perché i suoi convegni, penso a quelli straordinari che dedicò alla rivoluzione francese, veramente furono giorni incredibili, quelli che grazie a lui si vissero tra la costa tirrenica e la città di Roma. Ora, un ricordo elogiativo, non è un ricordo elogiativo, è un tributo di affetto, un tributo per tutto quello che gli debbo, che appartiene non tanto a ricette storiografiche particolari, appartiene così a quello che insegna un professore quando diventa uno dei suoi compagni di lavoro al tavolo, ovvero il suo istituto di storia, Pisano, vide il nostro primo incontro con la rivista Anna, grazie alla presenza appunto del suo allora più eminente rappresentante in un seminario sulla storia delle lotte di classe in Francia nel 600, che fu oggetto di vivacissime discussioni di tutti i presenti, tutti i partecipanti. Quindi ricordi tanti, insegnamenti moltissimi, il suo misconoscimento della realtà che lo circondava, diciamo, uno di quei fenomeni che appartengono al carattere umano, ancora più, diciamo, che all'idea, alla riflessione intellettuale, è una di quelle forme di abbandono rivoltata di spalle, all'ambiente dove si è lavorato. Io, diciamo, lo capisco fisiologicamente in qualche modo, perché anch'io vivo una condizione simile, questo mi impedisce in qualche modo di oggettivarlo. Certamente Armando Saita non riconosceva, diciamo, molte tendenze dell'astrologia contemporanea, e lavorava ancora però fattivamente ai suoi progetti giovanili, che erano, diciamo, legati a quella idea di storia umana come storia della libertà e della storia europea, soprattutto, di cui era stato fondamentale e studioso, ovvero nei suoi saggi giovanili, sull'utopia, sull'Europa come utopia, sull'Europa come oggetto di riflessione politica tra Sette e Ottocento, di quell'Europa dei complottatori, da Filippo, e da quell'opera appunto dei Carbonari, delle sue ricerche giovanili, che gli favorirono l'appoggio e la stima e la simpatia umana di Don Giuseppe De Luca. La lettera calorosissima con cui Don Giuseppe De Luca mandò la copia dell'opera di Armando Saita a Delio Cantimori, dove definiva, ti mando quest'opera, del tuo e mio Armando Saita. Storia della libertà, storia d'Europa e questo suo tentativo, vorrei soltanto un ultimo scenno, poi vi ringrazierò per l'ascolto, un ultimo scenno appunto a questa iniziativa fattiva con cui Saita pensò che si dovesse collegare l'avvio del progetto di Unione Europea con una iniziativa che venisse dal mondo della storiografia. Partecipai grazie a lui e insieme a lui a incontri fuori d'Italia, specialmente in Germania, nella fondazione di questa società degli storici europei di cui la sua rivista fu in qualche modo l'organo iniziale, l'organo ufficiale e che finì con lui in realtà, finì con lui perché la sua vita si interruppe prima del previsto, in un momento in cui i progetti di lavoro erano ancora aperti. Io ricordo che l'ultimo incontro che ho avuto con lui all'ospedale ho visto il suo letto con le carte di un progetto di pubblicazione del caso della congiura di Baboeuf che aveva raccolto dopo la scomparsa di Dalin, lo storico sovietico, che insieme a lui e insieme al suo fraterno amico francese dovevano appunto dare vita all'edizione critica delle opere di Baboeuf. Ebbene, un lavoro interrotto, un progetto, ricordo un progetto di un libro sul suo paese, su Sant'Angelo di Brolo, in Sicilia, per una collana neonata che invece non fu scritto, non fu scritto perché gli mancò la vita, una vita che si interruppe nel pieno di un ardore di progetti crescente, crescente, e questo rimpianto di una vita interrotta così presto per i progetti che erano nella sua mente e che non poterono essere realizzati naturalmente è lo sfondo malinconico del ricordo di un suo allievo che è diventato, che ha avuto la fortuna di essergli amico. Grazie. Ecco, grazie a te Adriano per questa intensissima rievocazione che ha toccato anche il piano degli affetti e come non sarebbe potuto essere così. Però ci hai già dato una serie di spunti di riflessione molto importanti. altrimenti prima di tutto questo tema della libertà intellettuale che era sua cifra caratteriale e che spiega a mio parere anche quelle che poteva sembrare una sua, diciamo, suscettibilità e che invece era il radicalismo di chi rivendica la libertà intellettuale ma che era poi una ricerca non solo personale ma che si faceva, diciamo, lavoro intellettuale nella ricerca storica perché la larga parte dei suoi lavori sono proprio dedicati al tema della libertà sia quando ha studiato le origini del risorgimento italiano e sia poi proprio per il tema di studi europei in cui come tu hai giustamente sottolineato inizialmente è la dimensione utopica pacifista è quindi la sua predilizione anche per figure tutto sommato marginali e poco conosciute come Cluset o invece la sua validizzazione di Saint-Simon cioè sono tutti elementi che ci fanno capire come questo tema della libertà fosse fondamentale e poi l'altro problema è quello del suo essere un creatore di cultura storica di una cultura storica non confinata nelle aule dell'università ma che doveva essere cultura storica di un paese e giustamente tu su questo nota di pessimismo convergo hai sottolineato come è una dimensione che manca completamente al nostro presente sembra che non abbiamo più bisogno del passato e poi anche l'idea a quel momento altamente innovativa di una società degli storici europei abbiamo fondato varie società degli storici italiani ma l'idea di Saitta era molto più giovane e avanzata e innovativa poi è morta con lui come tu ci hai detto molti dei temi che tu hai affrontato in un affresco complessivo saranno poi ripresi domani con affonti più particolari e quindi penso che avremo modo di ritornare ti ringrazio ancora grazie a voi intanto ho il piacere di introdurre il secondo intervento che è quello di Anna Maria Rao una storica riconosciuta della rivoluzione francese posso certo ricordare tutto quanto ha scritto Anna Maria che è tantissimo però vorrei ricordare tre suoi lavori che sono a mio parere estremamente importanti quello pioneristico sugli essuli la sua introduzione all'edizione italiana di Vovelle che si situa in un momento importantissimo del dibattito sul politico e la rivoluzione e per restare ancora nell'ambito di divulgazione insegnamento e temi di ricerca il suo volume tra insegnamento e ricerca la storia della rivoluzione francese del 2015 dove lei ha scritto un importante saggio ecco quindi Anna Maria nell'89 fu segretaria del comitato internazionale del bicentenario Seitta era membro di quel comitato fu un'occasione importante di dibattiti e quindi vorrei prima di cedere la parola ad Anna Maria aggiungere solo come Seitta non solo fu storico della rivoluzione ma fu anche organizzatore culturale appunto di studi, di un rinnovamento di studi intorno alla rivoluzione e come prestissimo assumendo quel suo incarico di direttore della collana storica del programma editoriale di La Terza fu tramite tra la storiografia francese come gli scrive ancora largamente misconosciuta in Italia lui diceva si era ancora ad Olar e il pubblico italiano questo avviene nella seconda metà degli anni 50 ed è un'epocazione storiografica importantissima ma Anna Maria dirà cose molto più precise e interessanti e non voglio ulteriormente occupare il microfono le cedo molto volentieri la parola ci sei Anna Maria? grazie Maria Antonietta mi sentite? sì, non ti vediamo? non riesco più ad avviare il video non so se dipende da me o da qualche comando centralizzato io non riesco più ad avviarlo e come facciamo senza vederti? vi mando una fotografia non so come fare non lo so come mai ci sentiremo dai le ho chiesto di avviare il video dovrebbe esserle comparsa una richiesta mi è comparsa la richiesta io vado su avvia video e mi esce una scritta impossibile avviare video ora si vede che ho bucato ho bucato la mia camera non lo so che cosa è successo ad ogni modo se per voi va bene io parlerei lo stesso e poi vediamo che cosa succede se riesco a riavviare anche anche il video sì l'organizzatore mi invita ma io non posso farci niente adesso sta succedendo qualcosa di strano continuano ad arrivare messaggi curiosi quindi penso che è meglio rinunciare altrimenti occupo tempo soltanto per ragioni per questioni tecniche bene voglio anche io ringraziare gli organizzatori in particolare Marcello Verga per avermi invitato a partecipare a queste giornate e anche per me è emozionante pensare e almeno vedere sia pure a distanza l'istituto che è stato per me un luogo importante di lavoro di incontro e di incontro di tante persone che oggi sto vedendo così a distanza e che spero di rivedere al più presto e molti altri che non sono qui adesso ma che ho potuto conoscere grazie alle attività dell'istituto e di Saitta dunque a me tocca il compito di parlare della rivoluzione francese di Saitta e la rivoluzione francese e come accennava adesso Maria Antonietta di Sceglia lo farò soprattutto attraverso un esame sia pure rapido della sua collaborazione proprio con l'editore La Terza prima però vorrei ricordare che degli studi di Saitta sulla rivoluzione francese molti si sono naturalmente occupati in passato vorrei almeno ricordare appunto Vittorio Criscolo ma anche i contributi pubblicati sia su critica storica sia sulle anali storiche della rivoluzione francese da Mario Leonardi e Jean-Frané Suratot e Walter Markov che erano poi legati da rapporti anche di amicizia con Saitta di recente Alessandro Guerra ha documentato l'intensità dell'amicizia con Sobul attraverso il carteggio e del resto nella prefazione agli atti del congresso sulla storia della storiografia europea della rivoluzione Saitta stesso ricordava come amico fraterno Markov e scriveva la compagnia di Alberto Boulle non ci ha abbandonato un istante a mia volta studiando il contributo delle istituzioni italiane alla storia della rivoluzione francese o non potevo non sottolineare il ruolo esercitato dall'istituto storico e da Saitta grazie soprattutto all'impegno di Armando Saitta gli scambi anche gli intrecci tra le annali storiche della rivoluzione francese negli anni 50 le prime recensioni alle opere di Saitta pubblicate sulle annal e viceversa gli scambi anche con movimento operaio dove nel 1952 veniva pubblicato il contributo di Soboul su classi e lotta e lotta di classi allora le tappe di questo itinerario rivoluzione francese naturalmente il momento cruciale fu la pubblicazione del Buonarroti ma già prima della pubblicazione del Buonarroti Saitta aveva pubblicato un testo importante le costituenti francesi nel 1946 nello stesso anno e la coincidenza cronologica è molto interessante pubblicò anche i pensieri politici di Vincenzo Russo che oggi si chiama Vincenzo i pensieri politici di Vincenzo Russo con un titolo molto suggestivo la società degli agricoltori filosofi 46 costituenti francesi e Vincenzo Russo un clima questo significativo di una tensione e coesistenza tra utopismo quello dei saggi cantimoriani sugli utopisti e riformatori meritoriamente ristampato ripubblicato recentemente e da una parte e dall'altra parte questo impegno di ricostruzione democratica e costituzionale già nel 50 sugli anali storici della rivoluzione francese usciva una rassegna di studi di Pia Onnis Rosa l'altro grande nome con Arrotiano e in questa rassegna Pia Onnis Rosa rinviava direttamente e del resto l'ha ricordato anche Maria Antonietta al clima di reazione contro il fascismo e contro il nazionalismo l'interesse per gli studi e per la storia della rivoluzione della rivoluzione francese e in particolare riconduceva questo contributo di Saitta sulle costituenti francesi appunto alla preparazione della costituzione repubblicana italiana più tardi nel ricordo in morte di di Lefebvre Alessandro Galante Garrone ricordava anche lui come fosse stata la reazione morale e politica al fascismo a far sentire ad alcuni dei nostri storici cito Galante Garrone il bisogno di cercare i legami tra il nostro risorgimento e la storia europea e dunque in questo modo avvicinarsi alla grande rivoluzione Galante Garrone assegnava un ruolo cruciale ad Armando Saitta in questo avvicinamento e in questo sforzo di conoscenza e di diffusione della conoscenza della rivoluzione francese nella storiografia italiana in particolare la raccolta Sanculotti e Contedini 1958 con il saggio di Lefebvre sulle folle rivoluzionarie e Galante Garrone ricordava che Saitta aveva sottolineato nel lavoro di Lefebvre la perfetta fusione della storia politica con la storia economica e sociale pur rilevando alcuni limiti nelle considerazioni metodologiche e poi la pubblicazione nel 59 presso la terza dei Paisons di un oro e Galante Garrone ricordava che in questo modo Saitta aveva portato l'opera del grande studioso al cuore stesso della storiografia italiana tanto che oggi scriveva nel 59 discutere di George Lefebvre del 60 scusatemi dei risultati dei suoi lavori è diventato un momento obbligatorio della nostra cultura storica e poi anche Saitta nella presentazione del Napoleone di Lefebvre uscito nel 1960 ricordava che era stato il nuovo clima dell'antifascismo e della resistenza a imporre i nomi di Mathieu e di Lefebvre e una metodologia di cui sottolineava appunto l'interesse per la storia delle strutture sociali per la storia dal basso una storiografia che legava strettamente il momento ideologico e quello sociale con una consapevolezza metodologica scriveva Saitta di gran lunga maggiore che non in blocco e quindi c'era in lui anche questo confronto con la storiografia delle annal alla quale pure guardava con attenzione dunque questo interesse per la rivoluzione francese si collocava in una stagione della storiografia italiana nella quale non era solo Saitta a guardare alla rivoluzione ma nella quale Saitta svolse un ruolo particolarmente importante proprio per questa capacità di organizzazione culturale alla quale molti giovani studiosi stanno guardando anche Francesco Torchiani che è qui presente e ne parlerà e ne parlerà domani del resto Saitta nel curare la raccolta momenti e figure della civiltà europea spiegava di avere inserito in questa raccolta anche qualche saggio concernente l'organizzazione culturale avendo sempre considerata questa come compito non indifferente allo studioso ed era uno dei punti sul quale poi aveva sempre insistito nel corso della sua vita dunque impegno editoriale c'era stato anche una qualche incursione einaudiana grazie a Cantimori nel suo lavoro sulle costituenti francesi annunciava l'uscita presso einaudi di un altro più complessivo lavoro costituenti e costituzioni della Francia moderna che in effetti sarebbe uscito annunciato nel 46 uscì nel 1952 con einaudi pubblicò nel 56 la storia della civiltà in Europa di François Chisot con una introduzione densissima sui rapporti tra storia filosofia politica e soprattutto sul concetto di civiltà e di civiltà della civiltà dell'Europa e civiltà in Europa però poi fu soprattutto presso la terza che indirizzò il suo programma e svolse il suo programma di diffusione della storiografia sulla rivoluzione francese ed è a questa che vorrei dedicare a questa sua attività presso la terza che vorrei dedicare appunto qualche diciamo la seconda parte diciamo di questa la parte che segue di questo mio di questo mio intervento dapprima come responsabile della sezione storica degli scrittori d'Italia che gli fu affidata da Luigi Russo e poi come responsabile della collezione storica per la quale pubblicò il programma nel 1950 55 con un appunto credo che nessuno di noi potrà fare a meno di sottolinearlo con una capacità di lavoro assolutamente straordinaria intensissima ampia in tutti in tutti in tutti i settori anche da Granada nel 53 54 continuava a seguire questo impegno questo impegno editoriale e intanto a Granada si era anche portato i testi del celebre concorso del 1796 sul quale continuava a lavorare che poi sarebbe uscito molto più tardi nel 1964 e non dalla terza ma ormai nella nuova collana Italia e Europa collezione per il primo centenario dell'unità dell'istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea i principi di questo programma editoriale sono strettamente connessi con la politica culturale che andava svolgendo anche dentro movimento operario e con le tensioni sollevate dentro movimento operario con un trasferimento proprio di testi tra l'uno e l'altro una presenza delle stesse affermazioni nel programma la terza e in movimento operario e cioè l'operazione era quella di uscire dalle strette di una contrapposizione storiografica tra marcasisti e non marcasisti tra storia delle elite da una parte e dall'altra la storia del movimento operaio e delle classi subalterne quella che proponeva era una riflessione storiografica e metodologica però concretamente legata a dei temi di studio non astratta e svincolata da temi da temi concreti non ho il tempo di soffermarmi su questi su questi aspetti ma almeno ricordare la relazione alla riunione del comitato direttivo di movimento operaio del novembre del 13 novembre del 55 in cui proponeva una visione democratica dei problemi della storia e questa visione democratica però diceva non significava che si dovesse essere per forza seguaci del metodo dialettico del marcasismo quindi un rapporto di dialogo continuo ma non di contrapposizione qualche cosa diciamo di analogo emerge di simile con uguale forza con uguale tensione anche culturale emerge nella corrispondenza con Vito la terza e con Donato e con Donato Barbone e anche in collegamento con la sua attività di insegnamento come ha già ricordato Adriano Prosperi a Pisa scriveva ho reso per quest'anno nel corso ho reso obbligatoria la rivoluzione francese del Sardegno era il 1955 intanto ripeto un'attività frenetica curava la composizione dei giacobini italiani di Cantimori primo volume poi Cantimori dei Felice la chiamava a un certo punto una tela di Penelope questa impresa tra correzione di bozze rinvio di queste bozze tra lui Cantimori tensioni per queste correzioni di bozze come sistemare le note dove mettere le note insomma però nello stesso tempo non si trattava soltanto in questo suo impegno editoriale solo di rivoluzione francese o di Giacobini e lui stesso lo ricorderà poi nel 1985 30 anni dopo nell'intervento per i cento anni di La Terza quando ricorda che le sue proposte riguardarono la storia bizantina la storia religiosa l'impero carolingio di Fictenau il Napoleone di Lefebvre la rivoluzione francese era stato uno degli aspetti di una politica editoriale di vastissimo raggio e tumultuosa ripeto segnalazione di testi le corrispondenze per procurare questi testi per esempio con Etienne Bloch per avere i testi del padre del padre Marc Bloch e poi individuazione dei collaboratori traduttori tutto questo mentre vicissitudini vari appunto lo portavano a Granada poi Pisa Firenze Roma Parigi giustamente Adriano ha ricordato anche insomma le vicissitudini personali a un certo punto scrive anche di affitti da strozzinaggio a Roma oppure appunto di questi ritmi di lavoro a un certo punto scritte che non dormiva da 48 ore insomma veramente è diciamo una sono testimonianze estremamente interessanti e a volte non è nemmeno da saitta direttamente che arriva la proposta di pubblicare testi sulla rivoluzione francese fu vito la terza a chiedergli il 7 luglio 1952 un parere sull'opportunità di tradurre la rivoluzione francese e il Napoleone di Mersetro e Saitta il 13 risponde sul piano scientifico non esito minimamente a dire di sì si tratta di quanto di meglio abbiamo sulla rivoluzione però è lui a farsi uno scrupolo editoriale in questa in questo suo parere dicendo ma però queste sono opere ancora in circolazione sono in francese in fondo il francese lo si legge forse in inglese in tedesco allora ci sarebbero maggiori problemi anche questa è una testimonianza interessante rispetto ai nostri tempi in cui credo che il francese quasi nemmeno non dico parlarlo ma nessuno più lo legge insomma si trattava di incrementare diffondere la conoscenza di questi testi al centro si poneva il problema del risorgimento italiano e delle sue origini e del rapporto stretto con la rivoluzione francese che non andava e non si poteva non si poteva negare sulla rivista la terziana cultura moderna 1952 e Saita pubblica l'articolo la storia del risorgimento e le edizioni la terza siamo nel 52 prima della circolazione delle idee della polemica venturiana e Saita scrive il risorgimento sorge con la rivoluzione francese i suoi primi esponenti sono i giacobini e non i riformatori del Settecento con questo però dice non intendo naturalmente trascurare lavori e studi che abbiano affrontato situazioni politiche o sociali o spirituali che hanno costituito altrettanto premesse altrettante premesse del risorgimento e passava in rassegna tutta una serie di studi soprattutto religiosi soprattutto sul terreno della storia religiosa Corsano Iemolo Codignola è un articolo estremamente interessante questo appunto sulla storia del risorgimento e le edizioni la terza con un'attenzione continua poi nelle sue valutazioni nei suoi giudizi e anche nel suo insegnamento ai rapporti storia storiografia storia e filosofia sì dalla filosofia scriveva si era allontanato per andare negli archivi e però il legame tra storia e filosofia rimaneva per lui irrinunciabile come continua a scrivere nella sua guida critica alla storia della ricerca storica del 1980 dove riprende di nuovo dei passi del suo programma la terziano del 1955 soprattutto su quella famosa indicazione metodologica di guardare non solo a ciò che è stato ma a ciò che avrebbe avuto ragione di essere e che non era stato che scrive sia nel programma la terziano sia nel in movimento operaio nel celebre epilogo provvisorio sull'importanza di guardare appunto non solo a ciò che è stato ma a ciò che fu soffocato ma che aveva una sua ragione da essere in cui spiegava anche e che era anche la sua presa di distanza pur nella in una adesione naturalmente anche di fondo da croce e dal crocianesimo perché lo storicismo per lo storicismo crociano solo del positivo si fa storia si può fare storia osservava e invece bisognava anche fare storia di ciò che non era stato ma avrebbe potuto essere tenendo conto volta a volta delle alternative che nel corso del processo storico si possono si possono verificare si possono e si possono riscontrare insomma andrò molto velocemente vi chiedo scusa di questa di questo di questo precipizio ma il tempo vedo che stringe in questa sua appunto in questa sua fervore come dire intensità di riflessione storiografica e metodologica vedeva dei punti di contatto fortissimi se non di identità con Georges Lefevre e i suoi allievi e intanto programmava l'antologia storica e origini del risorgimento che poi non non realizzò sondava anche la possibilità di pubblicare Porsche presso la terza e osservava bisogna sarebbe per la prima volta un esempio di storiografia sovietica innestato nella produzione la terza bisogna andare estremamente cauti siamo nel 1955 proponeva anche il rabbo Lady Sperre ma Vito la terza lo scartava e proponeva Brodelle insomma veramente un'attività tumultuosa all'interno della quale però poi adesso io concentrerò l'attenzione soprattutto su due su due testi quelli che quello che la raccolta che sarebbe stata chiamata Sanculotti e Contadini e I Paisans du Nord la raccolta Sanculotti e Contadini i titoli possibili erano stati vari alla fine venne scelto Sanculotti venne scelto Sanculotti e Contadini e su questo c'è un rapporto di collaborazione strettissimo naturalmente con Albert Sobul c'era un problema di acquisizione eventuale di diritti d'autore e Sobul gli scrive che per questi saggi non c'erano diritti d'autore da acquisire e che comunque la gloria di essere editi in Italia poteva bastare c'era anche questa diciamo accentuazione dello scambio insomma della circolazione anche della storiografia dell'interesse e la circolazione della storiografia francese in Italia e poi i Paisans la raccolta Sanculotti e Contadini ebbe anche questo una delle decissitudini varie inizialmente erano previsti 14 articoli poi bisogna ridurli anche per ragioni di equilibrio tra i vari autori ho già detto le folle rivoluzionarie di Fevre ma anche il saggio sul pratile e poi i saggi di Sobul di Rudet e di Cobb e Cobb inizialmente di Cobb si prevedeva un maggior numero di contributi poi il numero dei contributi venne tagliato e Cobb si risentì di questo di questo taglio fece sapere appunto di essersi seccato si era anche seccato per essere stato presentato come allievo di Lefevre mentre diceva Cobb no io sono allievo di sono stato allievo di Pierre Caron Pierre Caron e non di Lefevre e poi sempre Cobb diceva ah con noi Lefevre non è stato tanto gentile avrebbe potuto aiutarci di più e Saitta con questo suo stile straordinario risponde a Sobul ah bellissimo scuola osetta affaristica o Cobb Cobb che fino all'ultima volta mi hai parlato del Fevre del grande padre Lefevre che cosa tanto posso di te che Lefevre abbia dato l'eredità della revue storica Godchow e quella dell'Eannal a Renato insomma un intreccio anche di di vite e di itinerari personali tra queste tra queste figure e però l'importante è che Sanculotti e Contadini effettivamente è una pietra miliare nella conoscenza e nella diffusione della storiografia sulla rivoluzione francese in Italia ugualmente complicata fu la pubblicazione dei Paisons du Nord e ancora di più perché si trattava di un enorme di un enorme volume da un enorme numero di pagine e per al quale però Saita davvero tenne in una maniera irrinunciabile irrinunciabile anche perché nelle biblioteche italiane esisteva soltanto due o tre biblioteche era stato pubblicato solo in 300 esemplari stava scomparendo perfino in Francia Lefevre stesso gli aveva detto che diritti d'autore non ce n'erano perché l'aveva pubblicato a proprie spese e quindi non c'era nemmeno da e però l'operazione editoriale era certamente molto costosa e allora l'editore cercò di impegnarsi presso l'ambasciata di Francia mandò una relazione di Saita per suggerire una per sostenere una coedizione e questa relazione ecco il libro di Lefevre è definito un gioiello ma anche la relazione di Saita è veramente un gioiello al quale vorrei dedicare appunto gli ultimi minuti che mi rimangono perché Saita scrive quest'opera è un classico internazionale della stereografia economico sociale sarebbe un errore considerarlo come un lavoro limitato all'ambito regionale i paesans i paesans du nord no si tratta di un lavoro da pubblicare per la sua esemplarità metodologica perché in questo lavoro anche uscito appunto trent'anni prima è racchiusa in germe tanta parte dell'attuale storiografia francese il metodo di ricerca storica applicato all'agricoltura del Lefebvre e la storia dell'agricoltura era qualcosa che si conosceva in Francia in Inghilterra in Italia no in Italia al massimo storia della legislazione agricola osservava Saitta sempre in questa relazione e e poi diceva ancora che questo testo sarebbe stato utile anche per la Francia non solo ma quello che è straordinario di questa relazione una relazione scritta all'inizio del 1956 e che Saitta considerava già in una fase calante la grande storiografia della rivoluzione francese è un dato che impressiona perché quando poi muore Lefebvre dopo pochi anni e Venturi che scrive e visto è morto è morto Lefebvre una grande stagione la grande storia della rivoluzione francese è finita è impressionante nel 56 Saitta scrive questa rigogliosissima storia che si era venuta costituendo alla Sorbona accanto alla Febvre incomincia a dare segni di stanchezza ed è in crisi si è trasformata in semplice pura erudizione locale senza contatto con una visione d'insieme il libro delle Febvre può servire come correttivo per il nesso sempre presente tra storia locale e storia generale tanto più urgente in quanto il declino della storiografia francese sulla rivoluzione dell'89 coincide con una netta ascesa della storiografia tedesca e americana sull'argomento e quindi insisteva continuava a scrivere ma allora Lefebvre che facciamo poi guardate a 81 anni facciamo presto sbrigiamoci in queste lettere e poi diceva sbrigiamoci anche perché se no ce lo tolgono appunto editori inglesi oppure americani alla fine un appunto dell'editore su questa relazione e sulla relazione poi sui costi scrive no costa troppo non lo pubblichiamo e Saita torna alla carica con una capacità che appunto di veramente di battaglia straordinaria e tagliando insieme a Subullo ci lavorano tagliano le note tolgono tutta la parte degli appendici e finalmente così i prison di Nord nel 1959 possono uscire e nel 60 esce anche il Napoleone e allora un minuto e chiudo Maria Antonietta ha ricordato poi l'attività anche del Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della rivoluzione francese di cui io fui segretaria e anche lì Saita ma fin dall'inizio fin dall'inizio tra quelli che maggiormente si batterono per cogliere l'occasione per dare dei risultati che rimanessero dal punto di vista della pubblicazione delle fonti e non soltanto delle iniziative effimere e di qui appunto col timbro Italia-Europa bicentenario della rivoluzione francese la pubblicazione del termometro politico della Lombardia a cura di Vittorio Piscuolo del giornale dei Patrioti d'Italia a cura di Paola Zanoni gli agenti civili francesi in Italia a cura di Mario Leonardi e l'organizzazione del grande congresso appunto che è stato più volte ricordato della storia della storiografia europea della rivoluzione francese che poi appunto fu come una sorta una sorta di di lascito con un'osservazione tra ecco tra l'amarezza e però il sollievo nella non non post fas ma a proposito di post fas che figura nell'ultimo volume appunto degli atti del congresso sulla storia della storiografia europea Saetta scrive tra i fenomeni più positivi di questo post bicentenario bisogna segnalare l'avvenuta glaceazione geologica di François Furet e scriveva ancora quello di Furet è stato un regno duro che ha creato è impietoso denunciava lo stato di subordinazione di grandi e illustri editori e le loro affrettate traduzioni e perché effettivamente aveva visto con Furet rovesciato completamente il suo programma editoriale la terziano Furet dal canto suo nel volume dei cento anni la terza celebra l'editoria italiana per la sua apertura la più aperta in Europa che è la terza come l'editore più attento a ciò che accadeva fuori d'Italia andando controcorrente con il suo pensée la rivoluzione francese insomma veramente un'inversione un ribaltamento potremmo dire che Saitta non poteva che vedere come bruciante rispetto all'impegno che aveva avuto per diffondere la storiografia che riteneva metodologicamente più agguerrita e importante della rivoluzione francese in Italia però appunto partito da quello che era stato una sorta di stato nascente degli anni cinquanta di reazione al nazionalismo al fascismo eccetera sappiamo che poi questo stato nascente ha cercato davvero per tutta la sua vita di tenerlo di tenerlo di tenerlo vivo e chiudo davvero scusatemi se ho sforato i tempi assegnatemi ma il 25 giugno del 1957 da Firenze Saitta scrive al caro vecchio vecchio avevano 30 anni al caro vecchio e battagliero Gerrizzo gli scrive e gli scrive a proposito del cattivo carattere di Mazzarino dice non dovrei parlare io che di cattivo carattere o anche il mio in realtà era il carattere appunto di un di un combattente di un combattente grazie chiudo chiudo con questo grazie Anna Maria non ti vedo ma ti arriverà comunque il ringraziamento per questa ricchissima relazione telegraficamente metto in rilievo due o tre punti intanto il mi sentite perché nel mio schermo sono apparse ma mi sentite ti sentiamo ti sentiamo ti sentiamo ti sentiamo il primo punto che vorrei mettere in rilievo è quello che tu hai ben individuato come Nesso tra il suo studio sulle costituzioni francesi e il suo come dire le sue riflessioni la sua partecipazione a quello che era il processo di cambiamento istituzionale e costituzionale dell'Italia perché diciamo questi studi cominciano appunto a metà degli anni 40 e continuano con progressivi allargamenti fino agli anni 70 ma originariamente si legano anche e qui il discorso sulla rivoluzione sulle sue costituzioni si intreccia come ovvio a quello sull'Europa ad una sua riflessione sulla costituzione della terza e quarta repubblica e quindi c'è un suo proprio una sua come dire doppia battaglia sul piano storiografico e sul piano dell'impegno nella comprensione ricostruzione del presente e l'altro punto è quello della coincidenza tra il suo lavoro presso la casa editrice la terza di organizzazione di una politica della storiografica e di una politica della storia e il suo ruolo in movimento operaio perché è possibile proprio come come del resto sapete molto meglio di me leggere in maniera comparata alcuni testi che sono sincroni per date ma siccome siamo in ritardo io non voglio minimamente attardarmi con queste annotazioni avremo modo di tornare su questi temi io toporei a Marcello di restringere il nostro intervallo da 15 minuti a 7 minuti per guadagnare un po' di tempo 5 a 5 minuti 5 perfetto sono le 12 7 12 12 7 alle 12 12 ritorniamo su questo schermo arrivederci grazie 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 ad Adriano ad Anna Maria e a Maria Antonietta grazie 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 Grazie. 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 Aspettiamo Maria Antonietta, sono le 12.12, vedo Francesca già pronta, Gabriella, poi anche gli altri. Eccomi, sono qua. Benissimo. Mi dai là? Certo, figurati. Scusa però, ma mi tenete controllo? Ecco, con la connessione ora è migliorata. Perfetto, sei a posto? Grazie. Mi senti? Benissimo, si avevi un problema di connessione un secondo fa, ora tutto a posto. Benissimo. Benissimo, eccomi qua. Allora, dopo questa non pausa, riprendiamo con la relazione di Vittorio Criscuolo, che è in perfetta continuità con quella di Anna Maria Rao. e di Vittorio Criscuolo voglio solo dire che è stato allievo di Saita sin dalla tesi di laurea, se non sbaglio, e che è stato a Roma fino allo stesso anno in cui Saita è mancato. Quindi veramente un rapporto di vicinanza straordinario, che è l'autore, come è stato ricordato, della bellissima voce Saita nel dizionario biografico degli italiani, e che ha partecipato a quella stagione, appunto, che ha rievocato Anna Maria Rao, di pubblicazione delle fonti, con lavori importantissimi come l'edizione in quattro volumi del termometro politico della Lombardia, nonché essere autore di tantissimi studi sul periodo giacobino e sulla cultura politica dell'età napoleonica. Quindi io credo che già i precedenti interventi costituiscono un'ottima cornice per il suo intervento e quindi a brevio i tempi gli do la parola senza indugio. Prego Vittorio, ti ascoltiamo. Sì, anch'io devo ringraziare Marcello Verga, proprio anche per questo un po' coinvolgimento anche personale di questa giornata, perché per una serie di coincidenze il mio trasferimento all'Università di Roma, alla Stata di Milano, ha coinciso proprio con l'anno, intanto col pensionamento di Saita. Poi con la sua scomparsa. Io ho preso servizio a Milano all'aprile e l'anno. Quindi, insomma, sono molto contento di partecipare a questo giornale. Non riprenderò in questa sede quella questione del giacobismo italiano che ha tanto agitato le acque della storiografia italiana nel dopogueba e fino alla metà degli anni Sessanta. Le radici ideologico-politiche di quelle contrapposizioni sono state già sufficientemente, evidentemente, sia vite e, d'altra parte, rinviano ad una stagione che ormai è davvero molto, molto lontana. Cercherò invece di concentrare la mia attenzione su alcuni aspetti specifici delle ricerche di Saita sul triennio repubblicano 1696-1699. Naturalmente, il tempo trascorso, la quantità e la qualità delle fonti di cui oggi disponiamo e anche le nuove prospettive ricerche che sono aperte ci pongono inevitabilmente quelle ricerche in una luce diversa, quindi in qualche modo la rendono inattuale. Però mi pare che si possono ricavare da quegli studi una serie di riflessioni, soprattutto sul piano metodologico, che possono essere particolarmente utili anche per orientare gli sviluppi attuali, gli studi in un settore che, devo dire, che negli ultimi tempi, grazie a una nutrita e agguerrita schiera di giovani e studiosi, hanno conosciuto una fase di rinnovata ricalità. Ci aiuta in questo anche qualche testo che abbiamo potuto ricavare dalle carte Saita depositate verso la Scuola Normale Superiore di Pisa. E vorrei anticipare che anche in questo percorso, come già mi è capitato quando in occasione dei 60 anni della Fondazione Perfinelli ho ricostruito le vicende di un movimento operario, anche in questa occasione, devo dire, ho incontrato, ho potuto constatare l'assoluta centralità della figura dell'opera storica di Deglio Cantimori, la quale, non a caso, Saita dedicò la sua ultima lezione che ho ben presente nei ricordi. E quindi il punto di partenza non può essere che quell'opera dei riformatori e utopisti italiani pubblicata dallo storico romagnolo nel 1943 e che è stata molto fortunatamente pubblicata di recente con una bella introduzione di Piasiori e di Turchiano. E sarà già sottolineata più volte la continuità fra gli eretici e questo libro del 1943. In realtà anche le stesse testimonianze di Cantimori ci indicano come gli abbia incontrato, soprattutto nell'idea di tolleranza, nell'idea di riforma religiosa, un filone di continuità che l'ha portato a studiare questi utopisti e riformatori. E' un lavoro certamente pioneristico che si svolge su un terreno in gran parte vergine naturalmente, che però ha avuto un'influenza importante e che diede occasione a Saita anche per progettare, diciamo così, un'opera che poi in realtà non è stata pubblicata, ma di cui è rimasta fra le carte Saita di Pisa, una prefazione che è datata nel settembre 1945 da San Mignato. L'opera doveva comprendere sette saggi dedicata alla memoria del padre e in realtà poi, ripeto, non è stata pubblicata, ecco, credo che la viviate, spero, ecco. Poche cose su questo testo, ripeto. Intanto lui stesso Saita dice che aveva pensato a quest'opera come complemento e integrazione del lavoro di Cantimori. Questa è una prima indicazione. Ma soprattutto interessa il fatto che già in questa prefazione il giovane studioso si pone però in una prospettiva un po' diversa rispetto a quella di Cantimori. lo dice con chiarezza, in cui scrive appunto appunto in cui sostiene appunto che ecco, il criterio di scelta della mia adoperato è più largo e più, in nostro tempo, più delimitato rispetto a quello di Cantimori. L'impostazione del presente lavoro è diversa, nettamente diversa. In che senso? Questo è un tipo di riflessione interessante, nel senso che egli si ripollega qui ad una recensione a due opere di De Mattei e di Battaglia che aveva recensito nel 39 nella rivista degli annali della scuola normale superiore di Pisa e riprende questa posizione. In realtà egli aveva contestato in quella recensione la distinzione che Croce aveva stabilito, fra la storia delle lozzine politiche e la storia etico-politica, cioè sostanzialmente fra la riflessione politica, che si svolge quindi sul piano logico-teoretico, e invece i programmi, le ideologie che sono rivolte sostanzialmente all'azione concreta. Ecco, appoggiandosi soprattutto a Rodolfo De Mattei, aveva posto un superamento, una necessità di un superamento di questa distinzione, e aveva scritto L'errore si annida nel concepire la scienza empirica della politica, il pensiero politico, come una costruzione di schemi di natura essenzialmente logica. e scrive ancora, le ideologie politiche non possono essere poste sullo stesso piano degli schemi scientifici della politica, perché in concreto sarebbero azioni e non verità. Questa è la posizione naturalmente crociana, ma invece egli rivindicava il fatto che anche le opere di carattere teoretico, le opere del pensiero politico, nascono sempre da un'esigenza concreta, specifica, e dunque hanno sempre, c'è sempre la necessità di calavra nella storia. Ecco, questo rilevo critico non sfunga a una fase che Eddi ha cancellato, che è un aspetto significativo. Lui aveva scritto in un primo momento, nonostante la sua fondamentale posizione stereografica antiprociana, poi lo cancella, dice comunque che nell'opera di Cantimori giunge all'estrema, come un'estrema escressione, la concezione stereografica di un puro valore pratico strumentale da dare al biologico. Ecco, questo è proprio il punto che Eddi invece contesta. L'ideologia, se dall'azione sorge, ad essa ritorna, non si esaurisce del tutto in questa. Foggia su tutto una vera canciana, che dà un particolare tono e colorito all'azione, senza esaurissi completamente messi. Questa particolare natura di biologia, per cui essa assolve per l'uomo d'azione la stessa funzione che per il poeta, la poetica, è stata da me esposta in occasione di me stesso facendo. E' interessante questo aspetto, perché qui troviamo un canone che è fondamentale della ricerca storistica, come cercherò di dire fra te, e ci mostra anche quanto siano tutto sommato errate le concezioni di Saitta come storico marxista. Questo canone fondamentale si è formato precocemente e dietro questo c'è soprattutto la lezione di Morandi, il quale aveva scritto appunto che la storia delle ottime politiche deve essere risolta nella storia vera e propria. Ecco qui il canone che c'è dietro questo tentativo di superare la prospettiva crociana e che porta anche il giovane Saitta a distinguersi da quella di Cantimori, che era in realtà una storia intellettuale, come lo stesso Cantimori, che invece porta quindi Saitta a una prospettiva diversa, che poi sarà sempre sua. Ecco, è chiaro che poi su questo si inserisce successivamente la suggestione del marxismo, quindi la tendenza a accogliere poi in concreto il gioco delle forze sociali, dei gruppi sociali, delle forze politiche, che tendono a tradurre in atto, in concreto, l'ideologia o i programmi, e che quindi tendono all'azione, ma in questo c'è sempre il carattere ideale che va considerato, non può essere esclusivamente risolto sul piano dell'utile, e come invece tendeva a fare, non sono azioni e non verità, c'è sempre una visione del mondo. E non sfuga anche un particolare che a me sembra interessante, questo parallelo con il poeta. L'ideologia per l'uomo l'azione è la stessa funzione che ha per il poeta la poetica. Io qui sento un richiamo forte a Luigi Russo, a un seminario alfieriano di Luigi Russo, di Luigi Russo su Alfieri che, come sappiamo, ha da molte testimonianze, non solo di Saito, ma di tutto un gruppo di normalisti di quegli anni ha avuto una funzione fondamentale, anche in chiave antifascista, dobbiamo dire, perché qui non c'è il tempo di approfondire questo, ma è stato già detto più volte. Quindi innanzitutto, primo punto, si coglie qui il distacco rispetto, da questo punto di vista, all'idealismo crociano, la volontà di una storia calata nelle cose. Primavera che sia un criterio di qualche interesse, sul quale magari anche oggi gli studiosi ricercatori più doni possono in qualche modo riflettere. Certamente Saita, come è stato già ricordato, fu impermeabile alle correnti stereografiche che hanno trovato un rinnovamento importante della storia europea negli anni Sessanta in particolare. Però ecco, Duttono Armato aveva perfettamente ragione Cantimori quando lo definì un studioso italiano di antica scuola, di antica scuola tradizionale, sostanzialmente. Però qui è un criterio che secondo me può essere ancora valido rispetto, per esempio, alle storie concettuali che oggi interversano. E penso, per esempio, alle storie che hanno tuttoformato, francamente, posso dirlo, modeste, di Jonathan Israel sull'alunismo radicale, la rivoluzione della mente, sulla storia concettuale della rivoluzione francese dello stesso Israel. Ma anche, per esempio, sul concetto che è stato richiamato sulla storiografia dell'ultimo civile, il quale, in fondo, avalla l'idea di allontana ascendenza talmon, sostanzialmente, per cui, alla radice del terrore, ci sarebbe un'idea astratta e assoluta di democrazia, che parte da Rousseau e che attraverso il terrore e che poi giunge fino all'autoritarismo dello stalinismo novecentesco. Ecco, questo è un modo di concepire i modi storici che francamente li impoverisce. Le idee, certamente, hanno importanza nella storia, ma camminano sulle gambe degli uomini, camminano attraverso i gruppi che le adottano, che si sforzano in qualche modo di realizzarle, nella lotta politica, nella lotta sociale. E questo, la storiografia di Saïda, ce lo ricordo, forse è un piccolo insegnamento che può avere qualche valore ancora. Infine, non dimentichiamo un fatto che proprio su questo nodo, che emerge da questa prefazione del 45, scusate, emerge un altro tema, perché sappiamo bene quando poi, nel 56, Cantimori dà la sua famosa definizione dei Giacobbini che tengono presente il momento eroico della tradizione francese, Cantimori fa una precisazione, descrive nell'azione e più nello scrivere. E non è un caso che, appunto, undici anni dopo, proprio su questo punto, Saïda si inserisce per superare la prospettiva Cantimoriata. Perché richiamo invece l'esigenza non solo di considerare gli scritti di Giacobbini sul piano teorico, sul piano del pensiero, degli scritti, ma soprattutto sul piano dell'azione, sulla loro volontà politica, di tradurre nei limiti in cui era possibile, erano limiti molto stritti, nell'Italia del triennio 96-99, il grande modello di azione del Giacobbini francese. Scusate, controllo il tempo, perché non vorrei davvero abusare. Ecco, solamente perché anche Cantimori fu attratto da questi uomini utopisti, riformatori, perché in fondo erano anche questi degli isolati, degli sconfitti, dei marginali, e lo coglie bene il motivo con grande lucidità, ovviamente, Cantimori, perché erano intanto cosmopoliti, mentre invece nel Risorgimento si afferma la centralità dell'idea di nazioni. Erano razionalisti, eredi del Settecento razionalista, e che dunque vengono visti in maniera non positiva nell'Ottocento romantico e spiritualista, perché nel Risorgimento si afferma la centralità del tema politico, che inevitabilmente, come dire, relega in una posizione marginale il problema sociale. Ed è questa poi anche la genesi dell'opera di Cantimori, perché Cantimori parte dall'Ottocento, parte della citazione iniziale dell'opera del riformatore utopistico di Cantimori è fatta da Pisacane, ed è questo il punto appunto di partenza, che anche Saitta segue, quindi è interessante osservare questo aspetto, successivamente si aggiunge, ci torna indietro, da Pisacane, da rilevare come mai il tema sociale abbia avuto così poco spazio in esorgimento, si torna indietro, si torna a considerare le origini, fa 7-800, di questi gruppi democratici radicali utopisti, il termine poi si sfuma molto nel proseguo della ricerca, ma che comunque avevano posto a cercare, leggo Cantimori, tracce di idee, progetti, programmi di riforma sociale in senso socialistico, o come più esatto e meno anacronistico dire, egualitario, o in senso democratico. Si torna indietro a vedere questo mondo che poi darà vita appunto allo studio del giacobinismo a cui appunto Cantimori e Saitta si dedicheranno e a cui rapidamente passo proprio per evitare di togliere tempo anche ai relatori che seguono. Ecco, come forse qualcuno che conosce meglio questi studi ricorderà, nel 65, in occasione della discussione con Diaz sulla questione del giacobinismo italiano, Saitta riconobbe che Cantimori era stato, cito, veramente il primo ad impostare criticamente e quindi storicamente, sì, il primo a impostare criticamente e storicamente il problema della definizione del giacobinismo italiano. Ecco, questo, noi si pensava, leggendo questo brano, pensavamo naturalmente, evidentemente, soprattutto al volume del 56, il primo volume del giacobinismo italiano del 56, ma in realtà c'è una lettera, la normale di Pisa, che ci consente di affermare che in realtà è anteriore questo tema, perché si riferisce, questo riferimento di Saitta, si riferisce in realtà proprio al 52, a questa lettera che ora credo di aver condiviso con voi. Ecco, qui vedete cosa scrive Sant'Antimori. Come definiresti tu i giacobini italiani? Quel gruppo o quei gruppi, che o per iniziativa propria, tipo Bonarroti, o per propaganda francese, tipo Salvador, partecipavano idealmente, questo è molto importante, richiama quello che dicevo prima, alla rivoluzione francese, come rivoluzione di Robespierre, nel 93, tentavano quando potevano direttuare in Italia, si trovavano persi in opposizione al direttore e poi fu una l'opposizione a Napoleone e a Gelone, Bonarroti, attraverso già servete, si riconnettono alla cattolieria, eccetera. Un gruppo sempre di opposizione, al governo solo un momento, a Napoli o no? Non vedo chiaro. Questo è il nudo scienziale, vedete? Furono chiamati i giacobini, ma erano giacobini? A me parebbero di sì, quelli di Napoli. Nella Cisalpina furono all'opposizione di sinistra, dalla definizione dipende da molte cose. Riconosciamo qui la straordinaria capacità che ancora oggi è impareggiabile quando si leggono le pagine di Cantemora in tutti gli ambiti in cui è operato, di impostare e definire criticamente un problema, di sgombrare il terreno, di chiarire proprio le tracce che poi nella ricerca concreta occorre seguire. Ma è interessante la risposta di Saitta, ed è proprio il riconoscimento. C'è un modo di sorpresa, vedete, di Saitta, che risponde, che fa accogliere con immediatezza il fatto che proprio Cantimori sono il primo a porre prima volta questo problema. Scrive Saitta, che sbatto, che dono hai di smuovere le acque che sembrava anch'era. Devo infatti confessarti che dopo la tua lettera mi sono accorto che pur bazziganto spesso con i giacobini, in fondo non avevo mai pensato a definirlo. Accetta quel che scrivo, come semplice impressio. E qui è anche la risposta di Saitta interessante, anche se è una semplice impressione preliminare, ma ci date le chiavi di lettura che poi troveremo più avanti, su cui possiamo avviare una breve, rapida riflessione. Innanzitutto bisogna scattare l'accezione volgare del giacobino, come figlio francese in Italia, un po' come oggi per la qualifica di comunisti a persone che non lo sono. Attenzione, qui è interessante, un richiamo autobiografico, di Saitta e leggiamolo. I comunisti, cioè come si accusa di essere comunisti, coloro che in realtà non lo sono. È proprio il clima, è la posizione in cui Saitta si trovava. Ma lasciamo stare questo. Poi, vabbè, gli stessi rivoluzionari italiani, non tutti lo sono. Questo è un primo punto. Non tutti sono il giacobino. Questo è un punto importante. Direi che il fattore determinante debba essere se hanno accettato o meno la costruzione del 93, anche se hanno moderato le loro esigenze, anche se dove furono al potere accettavano o dovessero accettare modifiche in senso di costruzione del 95, sono giacobini se tenero fesmo il principio della sonorità popolare. Diretta, referendum, l'emocrazia diretta, eccetera, o indiretta. Nel caso di sonorità popolare indiretta, sono giacobini se il sistema rappresentativo è postato sulla base del sostegno universale o in maniera che non cerca di sovrappurre al popolo una regrazione politica. L'elemento socialista non l'ho ottenuta a regio del 93. E poi su questo punto se ho il tempo aggiungo rapidamente. E questo quindi è intenzione. Quindi la costruzione del 93. Ora, questa è un'indicazione che nonostante le polemiche che sono state sviluppate anche in occasione del bicentenario dell'89 e poi dei vari bicentenari che sono stati celebrati in varie in Italia, nella penisola, in occasione appunto del triennio del 1396-99 e nonostante questo credo che sia un'indicazione sostanzialmente valida questa che può essere ancora tenuta ben presente e che è stata ripresa da un maestro di questi studi, un amico e un collega che purtroppo è da poco scomparso ma che l'ha in sostanza alcuni anni dopo siamo nel 1399 accettata in pieno di fatto che Pablo di Luciano Grecci leggiamo elemento di discussione di distinzione fra le varie componenti dell'ascimento repubblicano non sono tanto i richiami al terrore comunque improponibile nella penisola quanto una valutazione in tutto in parte positiva della costruzione del 90 questi giacobini rappresentavano a scriverci una componente più fonda di quanto comunemente si tratta quella estrema di un movimento repubblicano democratico ma c'era quella la giacobina non si può negarla sostanzialmente e anzi oggi possiamo dire che diamo meno importanza al buon Arroti che sappiamo come invece per altre rie per altre canali politici o intellettuali si formavano nella penisola gruppi che si riferivano al momento ci chiamiamo eroico ancora sulla base di quello che diceva Cantimori della rivoluzione francese e che furono in fondo dei giacobini nel senso ristretti non tutti infatti ecco devo dire che io ho accettato in pieno l'indicazione di Grecci non parlo di triennio repubblicano di giacobino di repubblica giacobini movimento giacobino io parlo di triennio repubblicano e anche rispetto ai patrioti parlo di movimento repubblicano democratico dei quali giacobini furono solo una componente ma non c'è dubbio che essi dietro l'impronta a quel periodo e basterebbe ricordare i nomi di molti e credo che nessuno di questi nomi protagonista della storia fra 7 e 800 dell'Italia e dell'Europa si possa contestare che siano stati giacobini nel senso ristretto Giovanni Antonio Ranza Matteo Angelo Galvi Francesco Saverio Salfi Pietro Custodi Girono Boccalosi Giovanni Fantumi Giuseppe Fantuzzi Ugo Foscolo Melchior Regione Giuseppe Compagnoni Abba Monti Giuseppe Abba Monti Rasori Poggi il Piacentino Poggi e altri ancora vi rispiano l'elenco ecco questo mi pare importante come l'ascito ecco c'è una componente giacobbina in senso proprio e non a caso è questa che dà non perché sia più importante ma pensiamo senza questi uomini che cosa sarebbe il triennio repubblicano se dovessimo rifarci ai birago ai selbelloni ai moderati che restano poi il governo per esempio della Cisalpita furono quegli uomini che fondavano i giornali che dietro in Italia i primi esempi di giornale moderno sull'esempio francese furono questi uomini che introdusse nel linguaggio nella lingua italiana il lesso politico e spesso nella scena rivoluzionaria francese ecco scusate non vediamo il tempo ma vedo sì di essere ancora abbastanza sì ho qualche minuto ce l'ho ecco ecco fondamentale in questi studi che è stato troppo poco a mio parere eseguto e cioè l'indicazione del fatto che in quegli uomini riformatori utopisti che gli studiò vi era un nesso fondamentale fra riforma politica riforma sociale e riforma religiosa al grande fatto che erano che si muoveva in terreno non conosceva ben poco in fondo è ancora legato agli studi di Croce su Vincenzo e proprio altro ma nonostante questo questa è un'indicazione di fondamentale importanza nell'opera di Cantimori che è stata seguita e che ha dato frutti significativi se devo dire la verità non è in De Felice perché Renzo De Felice da quell'indicazione ha voluto trarre una categoria dell'invangelismo giacobino che oggi è evaporata che credo non sia mai stata di troppa in tecità negli studi sul segno e l'errore era proprio quello della lettura come dire rigida che De Felice dava dell'indicazione preziosa di Cantimori De Felice scriveva che nell'evangelismo giacobino il giacobino vava andava inteso come semplice aggettivo mentre invece evangelismo era il sostanziale e non solo diceva che questi uomini sarebbero stati spinti in ogni caso dalla loro formazione eriticale religiosa eriticale alla rottura con l'autorità costruita anche senza la presa di posizione politica legata alla rivoluzione di parte questa è una posizione che non ritengo assolutamente valida mentre invece francamente ritengo giustificati i rilevi di Saitta che a proposito del ranza metteva metteva l'accento sull'elemento politico di questi patrioti i quali ritenevano che non si dovessero spaventare i pusigli la parola di ranza bisogna usare la religione tradizionale per far leva sulle masse e legarle in qualche modo alle istituzioni ripubblicane che essi erano portati evidentemente a non sostenere se non addirittura a rifiutare e quell'altra parte per cogliere questo basti ricordare brevemente l'influenza centrale che Machiavelli ha avuto e la formazione di tutto il gruppo di uomini che ho richiamato prima e in particolare proprio sull'anza che è il suo favorito autore e siamo nel Laurentino ben prima dell'arrivo delle armate francesi di buona parte in Italia ecco io chiudo velocemente solo su un'affermazione non ho detto nulla dell'orreo ideologico-politico delle discussioni perché se ne è fin troppo parlato ecco io vorrei fare molto volete e si facesse molta attenzione anche qui un richiamo per le persone che stanno intraprendendo e stanno sviluppando molto bene devo dire questo e cioè non traduciamo queste contrapposizioni sul piano della concreta lotta certamente c'è un animo diverso del partito nazionale da un lato saitta dall'altro c'era evidentemente anche il rapporto col comunismo al partito comunista è una scelta politica e queste sono certamente dietro quelle posizioni ma c'è qualcosa di più ampio che non può proporre questi io vorrei richiamare solo un episodio in cui forse troviamo davvero l'anima di saitta in questo è il motivo più profondo al di là delle divisioni politiche del momento che lo contrapponeva lo contrapponeva invece avventuri a quelli che invece affermavano la scienzialità del settecento di formatore ridimensionando l'importanza della rivoluzione francese nella storia italiana ed è nella commemorazione che egli tiene nel 75 alla quale ero presente di Luigi Salvatorelli la ragionca proprio centrale degli studi storici e si richiamò una frase di Salvatorelli in cui Salvatorelli aveva detto noi siamo razionalisti e ce ne teniamo in tempi di razionalismo questa frase è stata esaltata da molti giustamente per certi resti anche da maturi era l'antifascismo di Salvatorelli che si chiamava le radici lunistiche nella sua formazione contro il razionalismo dilagante delle regine però attenzione Saitta andò a leggere tutto il brano in quel caso in realtà quel brano non si riferiva tanto a questo si riferiva tanto a una polemica con il modernismo e con Ernesto Bonaiuti perché in quel brano egli voleva richiamare la necessità di rifondere di rifondere appunto la storia religiosa nella storia civile ed è un richiamo forse sul piano intellettuale certamente giusto da questo punto di vista però Saitta non volle tacere la sua posizione su questo e disse con chiarezza che in realtà la sua simpatia nonostante riconoscesse sul piano logico come dire il valore della posizione Salvatorelliano di sciogliere la prospettiva religiosa nella vita e la storia nella storia concreta nella storia vera e propria d'altra parte però ecco egli sentì il bisogno di prendere posizione su questo disse che la sua simpatia in realtà era riservata alla volontà ostinata capaglia del buon aiuto di considerarsi nonostante tutto sempre credente e sacerdote ecco qui davvero c'è la consapevolezza settecento illuminista e un romanticismo un ottocento romantico che è davvero caradice della posizione di Saitta che ci condurrebbe sulle sue rigide fino a quella sicilia arcaica generosa che gli ha sempre amato e che ha sempre ricordato anche con i suoi ringrazio grazie molto Vittorio per questa relazione molto interessante hai scelto di non ripercorrere quella polemica storiografica che investì il tema del gicobinismo ma piuttosto di mostrare da un lato la la radice ottocentesca dell'interesse poi di Saitta per questo tema e dall'alto l'intenso rapporto che si sviluppò con Cantimori su chi fossero i giacobini chi dovesse essere definito il giacobino e la ineludibilità per Saitta dell'aggancio al 93 e a quello che significò per la rivoluzione francese poi hai detto una cosa molto interessante a proposito della ideologia dove Saitta fa riferimento a quanto aveva formato in due recensioni e lì se mi permetti vorrei dire quanto sono a margine di tutto ciò l'interesse straordinario delle recensioni di Saitta che noi possiamo leggere nella raccolta di suoi scritti minori tra virgoletti che non poter continuare e questo ci introduce secondo me un altro elemento al margine di riflessione cosa è stata la recensione come esercizio di scrittura storica e cosa è oggi la recensione come strumento di scrittura storica lo è ancora dove quando in che modo era una sollecitazione saletante che mi era venuta dal tuo intervento e volevo così lanciarla alla discussione e ora passiamo a un tema già molto evocato è quello del manuale di storia moderna io nel mio liceo di Matera ho studiato sul Saita a liceo e devo dire che ero assolutamente entusiasmata galvanizzata e credo che lì sia nata la mia scelta di studi successivi sul manuale di Saita cosa ha significato per la mia generazione mi pare molto interessante che Marcello abbia scelto di affidare questa relazione ad una persona che non si è potuta formare su Saita e che presento brevemente che conosco è uno studioso di storia militare e di storia del mediterraneo ha collaborato nel CNR all'istituto che Marcello dirigeva e si tratta di Michele Rabbà cui cedo volentierissimo subito la parola grazie grazie mille professoressa vorrei ringraziare davvero di cuore Marcello Verga per l'invito a questo convegno e vorrei anche ringraziare non so se ci sta ascoltando sulla diretta facebook Maddalena Taglioli del centro archivistico della scuola normale superiore che ha fornito la documentazione senza la quale questo intervento si sarebbe potuto tenere togliere dalla scuola ogni traccia del triste ventennio avvilmento e asservimento della cultura a volgari e angusti concetti la dichiarazione di intenti pronunciata da Adolfo Modeo nel 1944 anno in cui assunse il di castello dell'educazione nazionale che con lui riassumerà il suo vecchio eppure nuovo titolo di pubblica istruzione ci restituiscono le attese di quel vasto settore dell'intellettualità italiana che sullo scorcio del secondo conflitto mondiale guardava la riforma della scuola come base della palingenesi della politica e della società italiane almeno sul breve periodo tali attese trovarono riscontri nel complesso discontinui nelle politiche ministeriali soprattutto per una mancata riforma organica del sistema educativo e per la sostanziale permanenza della mentalità che ne ispirava i principi come constatavano già negli anni settanta le informate retrospettive sul tema di Remo Fornaca e di Giuseppe Ricuperati eppure il fermento intellettuale creativo che esprimeva e nello stesso tempo alimentava tali attese produsse frutti ancora oggi visibili tanto da apparire ben più che tracce di un lontano passato ma passi concreti verso una nuova concezione condivisa della relazione tra istruzione e crescita individuale e tra istruzione e partecipazione politica uno di questi frutti fu indubbiamente il manuale di storia realizzato in tre volumi da Armando Saitta tra il 1949 e il 1955 per la casa editrice fiorentina la nuova Italia di Ernesto e Tristano Codignola nella duplice versione per i licei classici e scientifici il cammino umano e per gli allora istituti magistrali il cammino della civiltà la presente congiuntura politico-sociale la nostra la presente attuale la crisi economica globale con le conseguenti tensioni sociali l'emigrazione di massa il revival degli estremismi nazionalistici e religiosi ha posto nuovamente l'accento sulla scuola e sul manuale di storia rispettivamente quale luogo e strumento di un'educazione inclusiva in una società multiculturale di edificazione di una ragione critica capace di individuare interessi e radici comuni di popoli e culture di comprendere la natura e le ragioni profonde dei contrasti di interpretare le capillari rifrazioni tra passato e presente tra il dato globale e quello locale tra ciò che è accettato in quanto conforme e ciò che è temuto in quanto diverso di qui l'attualità di un manuale di storia nazionale e non nazionalistica come dichiarava l'autore nella stringata ma molto significativa prefazione che annunciava la vastità dei suoi orizzonti sin dal titolo il cammino umano ossia dell'intera umanità e il cammino della civiltà to cure senza aggettivi obiettivo dichiarato dell'opera era cito dare all'allievo una visione obiettiva ed unitaria degli uomini i quali nelle loro realizzazioni perenni superano sempre gli stretti confini del paese dove sono nati e dove vivono dunque storia della civiltà umana non dell'Italia soltanto fine della citazione il primo dei tre postulati così li chiamava Saitta ispiratori del libro di testo esplicitati appunto dall'autore nella premessa chiama ad un suggestivo confronto con un'altra opera per la didattica quella già citata realizzata da Giorgio Spini vincitore come Saitta di una borsa di studio presso l'Istituto Storico Italiano e nello stesso concorso del 46 il primo dopo la fine della guerra il disegno storico della civiltà italiana pubblicato da Spini nel 1947 nel 1955 è già disegno storico della civiltà anche in questo caso senza aggettivi dunque come ha rimarcato Marcello Verga che lo ha recentemente riproposto per le edizioni UTET Università l'opera di Saitta è stato detto fu salutata entusiasticamente o aspramente stigmatizzata all'epoca quale porta d'ingresso nei programmi scolastici della galassia culturale marxista anche in virtù dell'attenzione dedicata a temi ai problemi di storia sociale ed economica una valutazione notevolmente problematizzata da molti dei più recenti interventi sul tema mi vengono in mente quello di Lucia Cappelli o di Francesco Torchiani diversi di Lucia Cappelli di Francesco Torchiani e molti altri assai più evidente appare il legame con le istanze diffuse alla denazionalizzazione dei libri di testo ben chiare e visibili già nel primo congresso mondiale per la pace tenutosi a Parigi nel 1899 istanze in seguito formalizzate come ci ricorda ancora Marcello Verga nella cosiddetta procedura Casares una direttiva rivolta dalla non così effimera evidentemente società delle nazioni ai membri per l'implemento di commissioni bilaterali finalizzate alla revisione dei manuali scolastici istanze più tardi rinverdite proprio nella seconda metà degli anni 40 attraverso la pubblicazione promossa dall'UNESCO di A Model Plan for Analysis and Improvement of Textbook and Teaching Materials as Aid to International Understanding nel 1965 in un articolo pubblicato sulla rivista Belfagor Massimo Legnani individuava nei manuali di Saita e di Spini i testi cito rispondenti alle finalità didattiche e culturali di un insegnamento aderente ai principi della Costituzione Repubblicana Saita aveva fatto proprio lo spirito e le istanze dell'europeismo nota Alessandro Guerra almeno sin dal burrascoso biegno dell'occupazione nazista e avvocava a proprio tempo l'occasione di dare concreta realizzazione politica ad un sentimento pacifista lungamente coltivato da una parte della società europea anche attraverso la ricerca storica e qui risulta assai emblematico il saggio intitolato dalla Repubblica Cristiana agli Stati Uniti ed Europa sviluppo dell'idea pacifista in Francia nei secoli XVII-XIX pubblicato nel 48 e recentemente riedito a cura di Alessandro Guerra nei motivi ispiratori del cammino umano servizio esso stesso reso ai singoli e all'intera società il pacifismo europeista si coniugava con il fruttuoso dibattito coevo sulla rilevanza dell'insegnamento della storia nel risveglio dell'attitudine individuale alla critica che doveva costituire la base dell'educazione del cittadino alla politica un dibattito che a partire dal 1950 acquistava una sede di elevato spessore scientifico e culturale nella rivista Scuola e Città fondata e diretta da Ernesto Codignola e pubblicata appunto dalla Nuova Italia nella menzionata premessa al primo volume Saitta volle rivendicare tal intento il terzo postulato della sua opera destinata all'insegnamento e studio della storia quale riscoperta del senso del passato ancora presente in noi luogo e occasione cito di riflessione critica o almeno aurora di riflessione critica da ciò il costante sforzo di realizzare un'esposizione che pur concedendo la parte che merita la narrazione degli avvenimenti non perda di vista le linee direttive del processo storico fine della citazione non meno importante il secondo postulato dichiarato nella premessa scaturito come gli altri due dalle interazioni tra intellettuale e contesto la centralità nell'insegnamento della storia del dialogo costante tra didattica e ricerca a sua volta frutto del confronto tra l'ipotesi dello storico da un lato e le fonti e la letteratura storiografica dall'altro due categorie di interazione dunque che modellano un testo attraverso il cito costante rapporto di reciproca integrazione tra testo e letture la maggior parte di manuali scolastici oggi esistenti danno a queste ultime un posto ridottissimo al massimo una in calcio ad ogni capitolo scriveva Saitta semplice riempitivo dunque si è voluto qui invece trasformare la lettura in parte integrante del testo stesso senza peraltro spezzare l'unità dell'esposizione ma il dialogo tra ricerca e didattica non era solo quello che aveva prodotto il volume era anche quello che doveva partire dal volume attraverso la valutazione dei colleghi insegnanti cui Saitta affidava il giudizio definitivo su questo tentativo sarò grato ad essi aggiungeva Saitta concludendo la premessa se vorranno farmi dono dei loro consigli e delle loro osservazioni parentesi presso l'istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea via Michelangelo Caetane 32 Roma esplicito si tratta di un passo importante perché apre una finestra sia sulla pratica quotidiana del mestiere di scrittore di manuali una costante nella carriera di Saitta parte integrante del suo programma intellettuale importante strumento di promozione della propria immagine di affermato studioso sia sull'ambiente di formazione e di ricerca la scuola storica nazionale annessa all'istituto storico italiano cui il cammino umano dovette molti dei suoi tratti più innovativi sotto il primo aspetto il successo di Saitta è indistruibilmente legato alla strutturata operazione culturale realizzato da Ernesto Codignola e dal figlio Tristano attraverso la nuova Italia gli interventi di alcuni tra i più rinomati intellettuali ed accademici del tempo inclusi Eugenio Garen Norberto Bobbio Natalino Sapegno oltre allo stesso Tristano Codignola raccolti nella miscellanea edita dalla nuova Italia nel 76 per commemorare i 50 anni dalla fondazione e diversi studi recenti tra cui quelli di Gabriele Turi Lucia Cappelli autrice di un'informata ed esaustiva retrospettiva sui manuali di storia della nuova Italia e curatrice di un catalogo completo delle edizioni per la scuola ci restituiscono il profilo di una casa editrice militante fucina dell'antifascismo fiorentino prima e durante la guerra pronta sotto la guida di Tristano a cogliere l'opportunità dell'aumento della popolazione scolastica alla metà degli anni 40 quadruplicando tra il 45 e 65 la produzione di libri di testo per ogni ordine di studi libri di testo che non si caratterizzano solo per il loro successo di vendite ma per la natura di long seller volumi longevi volumi di qualità frutto dell'attento monitoraggio degli indirizzi più condivisi e innovativi in tema di didattica attraverso la menzionata rivista scuola e città fondata da Ernesto Codignola nel 1950 ma anche in tema di ricerca non starò ozioso ricordare che una delle caratteristiche più originali del cammino umano il ricorso alle fonti e dalla letteratura storiografica quale parte integrante del testo era fissata a chiare lettere nell'articolo 4 del contratto stipulato da saita con la casa editrice cito inoltre sarà fatto largo uso di fonti e di passi d'autore da inserire nel corso della narrazione secondo gli accordi specifici che interverranno tra le parti l'articolo formalizzava l'adesione ad un approccio specifico che non premeva evidentemente solo a saita pure determinante per la lunga durata della fortuna dei manuali fu la costante attenzione di Ernesto e Tristano ai fermenti politici e culturali del paese dalle istanze diffuse la promozione della crescita culturale quale educazione alla cittadinanza connesse all'entusiasmo costituzionale degli anni 40 sino a 68 e dalla contestazione antiimperialista e antimilitarista degli anni 70 e su questo punto abbiamo visto che successe che avvenne qualche diciamo criticità in merito al rapporto con saita si aggiungano l'adozione nella gestione aziendale di uno stile fortemente consensuale che coinvolgeva nel processo decisionale numerose figure di collaboratori dai traduttori ai rappresentanti attraverso sondaggi e giri di opinione si aggiunga la progettualità di lungo periodo che non si limitava a trarre dalla produzione scolastica una compensazione economica a vantaggio della produzione di alta cultura ma che ricorreva alla seconda con l'estrumento per edificare un solido background culturale capace di fidelizzare il pubblico colto gli insegnanti e gli stessi autori dei testi scolastici chiamati a promuoverli facendo leva sul proprio prestigio accademico coinvolti in una continua attività di aggiornamento dei testi e in definitiva associati alla casa editrice tanto attraverso l'utile economico quanto nel quadro più ampio della loro progettualità intellettuale il carteggio tra Armando Saitta e Tristano Codignola conservato nell'attivio Saitta presso la scuola normale superiore di Pisa ci mostra un esempio di tali dinamiche la collaborazione con la nuova Italia inaugurata dal contratto per il cammino umano e il cammino della civiltà datato 29 novembre 1949 si aprì per Saitta in un periodo di gravi disagi personali che si traducevano fra l'altro in un impellente bisogno di denaro bisogno che indusse Saitta a proporre nel novembre del 50 un accordo che gli garantisse un pagamento a forfè in cambio della rinuncia alla percentuale sulle vendite la proposta venne prontamente accettata da Tristano Codignola che allegò il nuovo contratto alla lettera indirizzata a Saitta il 7 dicembre del 50 nella stessa lettera Codignola aggiungeva Desidero altresì informarti che gradirei affidare a te un altro lavoro che mi sta a cuore e che potrebbe d'altra parte consentirti un'ulteriore disponibilità finanziaria nei prossimi mesi Si trattava di proseguire una raccolta dei discorsi parlamentari di Cavour concepita per emendare completare e dotare di un corredo critico di testi di raccordo quella pubblicata a Torino per le cure di Giuseppe Massari e Raffaello Biffoli tra l'863 e l'872 la raccolta era stata intrapresa con la pubblicazione dei primi volumi dei primi volumi del 32 niente meno che da Adolfo Omodeo e sulla sua genesi e sulle circostanze che determinarono questo progetto ha scritto un saggio molto esaustivo e molto bello Francesco Tocchiani ma fu interrotta per la morte dello studioso siciliano al nono dei 15 volumi previsti chiaro era l'intento dell'editore di venire incontro ai problemi finanziari di un autore promettente cui Codignola prometteva 40.000 lire a volume e ormai vicino a quel concorso cagliaritano che purtroppo avrebbe avuto un esito in fausto coinvolgendolo in un'iniziativa di altissimo prestigio istituzionale e accademico e pertinente ai suoi interessi scientifici tanto più che la tua specifica competenza per la storia del sorgimento aggiungeva infatti Codignola è la migliore garanzia che l'opera dell'Omodeo non venga malamente interrotta la lunga durata della diffusione del cammino umano dipende dal costante aggiornamento del testo cui peraltro l'autore era tenuto da contratto solo limitatamente alle disposizioni ministeriali in tema di programmi ma anche da un'informale opera di coinvincimento degli insegnanti che pure presupponeva l'intervento diretto di Saitta il 25 marzo del 55 il responsabile dell'ufficio propaganda e sviluppo della casa editrice chiese allo storico di prendere contatto con una docente dell'istituto Leonardo da Vinci di Milano pur avendo elogiato in molti pregi del cammino umano l'insegnante aveva infatti dichiarato rappresentante competente che non avrebbe adottato il manuale in quanto non adeguato alle sue esigenze didattiche Saitta fu pertanto invitato ad avviare uno scambio di idee cito senza accennare alle adozioni scolastiche si precisava ma cogliendo quasi l'occasione per una discussione di carattere scientifico anche perché si aggiungeva nello stesso liceo vari professori sono disposti all'adozione del corso ma naturalmente la propaganda di questa professoressa non è per noi delle più redditizie il contributo richiesto ad un'opera che non poteva fornirgli alcun utile ulteriore utile economico avendo rinunciato ai diritti sul prezzo di copertina risultò a medio termine assai gravoso per Saitta che in una lettera indirizzata a Codignola il 20 febbraio 55 lamentava il costituto quantitativo di lavoro richiestogli dalla nuova Italia praticamente a titolo gratuito in un momento in cui proprio grazie al successo del cammino umano ed al prestigio della carta della storia moderna conseguita nel 54 presso l'università di Pisa Saitta era divenuto oggetto dell'attenzione di numerosi editori e destinatario di proposte economicamente vantaggiose per la realizzazione di iniziative di suo interesse gli aggiornamenti al manuale cui pure Saitta molto teneva divennero dunque l'oggetto di una serrata contrattazione tra Codignola fortemente motivato a mantenere l'esclusiva sulle opere per la scuola realizzate dal suo autore di punta e lo stesso Saitta cui premeva soprattutto di ottenere il sostegno dell'editore ai propri progetti in particolare all'antologia di critica storica che verrà poi realizzata con la terza e dai manuali per gli istituti tecnici e per le scuole di avviamento professionale fortemente evoluti da Saitta almeno sin dalla metà degli anni 50 il cumulo di proposte contro proposte rilanci che ritmano la corrispondenza di quegli anni tra Saitta e Codignola restituisce la natura variegata dei fattori che contribuiscono a determinare il valore economico e il seguito presso il pubblico di un manuale l'intrinseca qualità del testo il prestigio della casa elettrice quello dell'autore e il profilo più o meno alto da questi concretamente assunto nel sistema scolastico esemplare in questo senso le argomentazioni adotte da Saitta nella contrattazione con Codignola circa il compenso per la realizzazione dell'avviamento allo studio della storia dall'antichità all'età moderna pubblicato per la prima volta nel 53 come guida i concorsi a cattedra per l'insegnamento della storia nella scuola media di ogni ordine e grado nel lavoro in questione scriveva Saitta il 6 novembre del 51 direi che la cosa più importante è la presenza o meno dell'autore nelle relative commissioni esaminatrici ed è fermo mio proposito entrare quest'anno nelle commissioni d'esame se nell'eminente sessione d'esame io sarò nominato in uno dei concorsi per i quali è possibile adottare la guida in questione il compenso dovrebbe subire una maggiorazione di altre 30.000 lire Saitta si è detto rivendicava quali caratteri più originali del cammino umano l'ampio respiro geografico disciplinare di una narrazione che sovente lasciava campo libero all'argomentazione la proposta dello studio di un passato vivo nel presente quale strumento per educare ento critico individuale e infine quella stretta connessione tra didattica della storia e ricerca storica che modella tanto i contenuti quanto la struttura del testo in più luoghi quasi una collazione di fonti e testi di letteratura storiografica che in essi logici predisposti dell'autore legano in una prosa conseguentemente variegata e caleidoscopica e peraltro molto coinvolgente dunque il puntuale riferimento all'istituto storico italiano e al suo indirizzo preciso posto da Saitta conclusione della premessa più che una mera informazione pratica all'epoca del resto più che necessaria a vantaggi dei colleghi disposti ad esprimere per lettera suggerimenti e consigli appare a mio avviso un dovuto omaggio oltre che una rivendicazione di appartenenza all'ambiente di ricerca e di formazione al quale il manuale di Saitta doveva questi suoi tratti innovativi la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'istituto concepita fin dagli esordi quale via d'accesso ad un'esperienza triennale di formazione alla ricerca riservata agli insegnanti di scuola secondaria e ad archivisti oltre che ai cosiddetti liberi studiosi difficile poi non individuare nelle attività assegnate agli allievi della scuola la ricerca lo studio l'edizione di fonti sui rapporti diplomatici tra gli stati italiani e le potenze straniere la premessa dell'auspicata denazionalizzazione dei libri di testo la premessa di un approccio al passato indissolubilmente legato allo studio della fonte e dal dialogo serrato con tutte le correnti della storiografia quella mazzista inclusa la presenza della tendenza a considerare la premessa della tendenza scusate a considerare eventi e fenomeni quali prodotti di idee che circolano rimbalzano si depositano e si trasformano dei comportamenti di individui e gruppi in movimento nonché delle reciproche interazioni fra ciò che appare egemone e ciò che appare periferico grazie a tale impostazione di fondo il cammino umano ha certamente contribuito a problematizzare assunti particolarmente radicati nella percezione diffusa del passato nazionale e di quello europeo occidentale ma soprattutto ha insegnato o comunque tentato di insegnare con buone possibilità di riuscita a generazioni di studenti a guardare all'evento e al fenomeno storico per così dire alla maniera di Von Humboldt attraverso un'ampia prospettiva come si guardano le nuvole affinché il contorno non sfugga grazie mille grazie mille per questa accurata e sauriente relazione sulla manualistica veramente che ha un ruolo straordinario intanto la biografia nella biografia di Saita l'esperienza di insegnante credo che abbia un ruolo determinante anche per il momento in cui quell'esperienza fu esperita e poi perché i manuali furono veramente lo strumento attraverso cui si chiuse il circolo tra ricerca storica e cultura militante che era un po' l'asse diciamo che tendeva a realizzare Saita ma l'ora è tarda io non mi attardo con l'ora e quindi passerei alla ultima relazione di questa intensa mattinata che è quella di Gabriella Ciampi studiosa di storia contemporanea di storia del risorgimento autrice di molti studi anche sull'insegnamento della storia nel periodo postunitario che ci presenterà quindi una relazione su critica storica e qualcosa di estremamente importante la cui maturazione credo inizi nel momento in cui c'è il distacco la fine del rapporto con movimento operaio e quindi l'interrogativo anche di Saita esplicitato nell'editoriale che senso ha fare un'altra rivista una domanda che forse anche oggi potremmo farci che senso ha fare un'altra rivista e poi appunto la risposta a questa domanda che è data poi dal concreto divenire della rivista ma cedo la parola molto rapidamente e molto volentieri a Gabriella per la sua relazione ecco io spero di essere in perché faccio un gran caos con tutte queste mi sentite sì ti sentiamo professoressa Ciampi adesso non la sentiamo più adesso la sentiamo bene allora senti ma tu riesci a lavorare sul mio computer malgrado me chissà vabbè comunque speriamo in bene allora innanzitutto grazie a Marcello perché mi ha riportato in una casa che io ho semplicemente attraversato e quindi sono come dire presa da ricordi e soprattutto dal piacere di sentire e trovare persone che hanno anche loro attraversato la mia esperienza presso le stanze dell'istituto molto rapidamente alcune cose sono state già dette su critica storica critica storica viene pubblicata per la mia volta nel marzo del 62 quando Armando Saitta ha 43 anni insegna storia moderna già da 10 anni quasi 10 anni all'università di Pisa ha alle spalle la direzione di movimento operaio la direzione della collezione storica di La Terza ha il discorso manualistico cioè è un uomo che ha alle sue spalle un vissuto un passato delle delusioni delle battaglie da combattere e in questo senso a mio avviso nasce la volontà di pubblicare una rivista sua critica storica è sostanzialmente la rivista di Armando Saitta è la rivista che rappresenta una sorta di sua autobiografia un prodotto che corre intorno e accanto ai cambiamenti della sua vita personale pubblica storiografica c'è questo famoso primo numero di critica storica in cui appunto Saitta dà il perché dalle motivazioni quasi proprio per se stesso c'è lo spazio per una nuova rivista e per lui già c'è una puntualizzazione molto chiara che diventa una sorta di fil rouge per tutto il percorso della storia della rivista che muore giustamente sotto certi aspetti anche se è stata una perdita ovviamente sul piano editoriale con la morte di Armando Saitta e a suo avviso bisogna come dire ritornare a ricostruire quella che era la realtà nella sua complessità e cioè cito con presenza di molteplici nessi ora convergenti ora opposti il suo fronte opposto era che cosa quello che lui definisce un abuso della specializzazione che ha creato non tanto un approfondimento quanto piuttosto una sorta di incommunicabilità fra settori diversi e quindi piuttosto al contrario critica storica doveva servire a ricostruire proprio i punti di confluenza tra quelle che lui definisce le storie particolari e quella che invece è per lui la grande tasa comune e cioè la storiografia in generale ecco allora che all'interno di questa rivista vengono accolti e verranno raccolti negli anni saggi letterari filosofici sociologici politici non ci sono limiti rigidi di cronologia perché questo significava nella mente di Saita non tanto come dire un generico sincretismo di discipline varie ma invece andavano proprio intese come un metodo preciso per cogliere il punto di confluenza fra quello che per lui sono le storie particolari e la storiografia in generale in quanto ciò avrebbe permesso di attestare la inulledibile storicità di ogni tematica quindi questa è la cornice nella quale Saita pone il suo progetto ambizioso guerrigliero in un certo senso quale Saita è e poi definisce alcuni obiettivi e qui è quello che mi ha colpito è l'uso che ritorna in maniera proprio icastica del termine ponte critica storica che cosa deve essere deve essere il ponte tra gli storici di mestiere e la più vasta cultura quella cosiddetta non specialistica perché questo solo può permettere entro un termine estremamente contemporaneo il concetto di divulgazione corretta e quindi ecco che è fondamentale costruire un linguaggio condiviso un linguaggio che sia comune e comprensibile per tutti in modo che il prodotto storiografico possa diventare un prodotto condiviso da un'intera classe culta infatti fa una citazione estremamente precisa in questo termine in questo contesto non possiamo non ricordare che gli omodeo i derugero i russo sempre parlare a tutti e questo non fu piccolo merito quindi ecco che critica storica doveva essere quel ponte di nuovo ritorna questa parola tra la cultura alta la cultura scientifica e il mondo della scuola secondaria quello che accennava per esempio all'inizio della giornata prosperi e quindi costituire un punto proprio di incontro per uomini che hanno lui definisce esperienze culturali sensibilmente diverse ecco allora che critica storica doveva diventare un ponte di nuovo tra la cultura e l'organizzazione e in questo senso proprio l'idea della necessità di collegare il lavoro stereografico astratto quello più alto secondo tutti i crismi alle condizioni dell'organizzazione culturale in atto nel paese e lancia proprio un guanto di sfida che appartiene veramente al modo di interpretare il suo ruolo da parte di Saitta forse ciò farà di critica storica una rivista poco accademica ma essa non aspira a onori del genere aspira piuttosto a offrire gli innesti necessari per il futuro è una citazione cattaniana che giustamente Criscuolo ha legato in quel suo ricordo sull'annuario al pensiero di Morandi e al magistero di Guido Caloggio cioè i suoi grandi capisaldi della sua formazione ecco allora che la rivista viene anche come dire ideata costruita intorno ad alcune rubriche che sono tutte come dire fortemente volute e difesa da Saitta c'è appunto cultura organizzazione poi su questo tornerò perché ci sono alcuni passaggi importanti legati a questa sezione ad altre sezioni di aggiornamenti culturali e soprattutto il nostro oziario bibliografico che non deve essere nell'ambiente di Saitta semplicemente porre delle schede ragionate che queste possono essere come dire collocate in altro settore ma devono invece aprire un dibattito cioè devono essere suggestioni prospettive per lavori futuri per mettere in circolazione anche articoli riproporre articoli che in qualche modo sono passati in un certo senso sotto silenzio o non sufficientemente compresi e in ogni caso e questo ci tiene a precisarlo fortemente il livello scientifico dei contributi pubblicati non può essere minimamente messo in discussione critica storica il titolo non è stato scelto a caso ci scrive ribadisce di per sé che se fa dalla scuola uno dei centri del proprio interesse non ne fa però il fulcro unico esclusivo il suo naturale punto di riferimento è il concreto lavoro storiografico così come il suo orizzonte coincide con quelli degli storici di mestiere quindi appaiono questi termini ponte incontro sensibilità che diventano in qualche modo l'anima il tessuto connettivo della rivista e a mio avviso proprio quella tanto ricordata commemorazione che Luigi Russo ha fatto all'inizio del corso di storia moderna nel 61-62 e che viene ripubblicata proprio nel primo numero di critica storica in maniera saità degli strani pudori che emergono proprio dalla lettura della rivista anche il corpo della scrittura che è messo diverso più piccolo quasi volerlo come dire non far esplodere ma con una timidezza in cui ricorda appunto la sua esperienza di questo ragazzo che era partito dalla Sicilia che era arrivato in normale nel 35 e dove soprattutto c'è uno snodo importante del suo concetto della rivista e del suo rapporto appunto con il mondo poi della scuola in senso più ampio dovette arrivare a Pisa sentire le lezioni di Russo perché il nome di Gobetti venisse fuori cioè in altre parole la diciamo così denuncia che uno dei portati più gravi più dolorosi più infamanti sotto certi aspetti della dittatura fascista era stata quella sorta di autocensura che si era venuta a creare nell'intero apparato statale per cui quei docenti che pure preparati che pure entrano e restano nel suo diciamo mondo intimo pure avevano taciuto cioè non avevano raccontato quello che pure sapevano ed ecco allora questa citazione del nome di Gobetti e questo è forse il contributo più intimo di Saitta in quanto proprio come dire sostanze il suo concetto dei doveri del maestro nei confronti dell'allievo e cioè non si può accettare in alcun modo questo silenzio colpevole e allora ecco che critica storica attraverso la circolarità della ricerca la dialettica delle idee doveva proprio ostare a che si potesse ripetere in qualche modo questa sorta di autocensura cosa c'è nella critica storica Saitta è un padrone di casa estremamente direi siciliano è una casa aperta la sua rivista a studiosi giovani a studiosi conclamati alla diciamo fare entrare attraverso schede recensioni tutto quello che può essere il prodotto stereografico più più attuale più importante la sua è una presenza che alla fine risultata da questa lettura continuativa negli anni una presenza che vuole essere ricercatamente discreta è un disperato tentativo quasi così poco che così lontano al suo modo di essere di understatement e quindi ecco che noi troviamo tantissimi studiosi molti dei quali oggi sono qui alunni e non alunni storici consolidati esponenti del consiglio filosofico all'inizio ci sono alcuni saggi dell'amico Nicola Badaloni di altre discipline l'importante è che questi articoli coloro che entrano nella sua casa perché scrittica storica è effettivamente la casa di Armando Saitta coloro che pur non pensandola come lui penso alla dialettica tra il saggio suo del 65 e quello di Furio Diaz dell'anno precedente sulla questione del Giacobinismo Italiano purché chi scrive cioè l'autore sviluppi il suo concetto diciamo con onestà intellettuale rispettando quindi sia le proprie idee sia quelle degli altri piuttosto la presenza di Saitta e qui è stato ricordato proprio nella presentazione che mi ha voluto cortesemente fare il presidente della mattinata scusate io con i nomi ormai sarà una questione del virus ma il vibrione mi ha colpito e quindi mi scuso in partenza poi mi verrà e questo diciamo questo a Maria Antonietta vi sceglie scusami ma sono imperdonabile ma lo so e questo diciamo così idea che ci sia un'importanza rilevante nei contributi che sono per così dire minori che cioè recensione schedature di libri qui è interessante perché rientra proprio il mestiere di storico di Saitta di divulgatore di Saitta di garante della scientificità del prodotto che Saitta propone ai suoi lettori come padrone di casa appunto che deve offrire un prodotto testato ecco allora che quella necessità di controllare di verificare una volta mi disse io ci metto un mese a rifare le recensioni perché devo andare a guardare tutto quello che gli autori hanno guardato perché devo dire mi fece tremare i polsi perché Dio mio ma ecco questa necessità di verificare la ricerca fatta da altri la congruità tra linguaggio e contenuti che non è quindi una questione apparentemente di puntualizzazione anche un po' inutile o semplicemente astiosa ma invece proprio l'obbligo della completezza dell'approfondimento tecnico cioè quello che per lui è ineludibile nel momento stesso in cui si offre al lettore un prodotto scientifico un altro aspetto interessante di Saitta è quello che appare attraverso la sezione cultura e organizzazione che lui apre in particolare mi riferisco a questo con un editoriale di invito ai docenti della scuola della scuola media e superiori sul tema dell'insegnamento della storia nelle scuole e si apre con una serie di articoli di lettere in qualche modo con vari interventi di vari docenti da Casa Grande a Placanica a Salvatore Onofri a Mario Mirri sono tutti professori in quel momento che insegnano o nei licei o negli istituti magistrali in varie parti d'Italia da Viareggio a Civitavecchia da Marsala a Brescia quindi c'è Parma Catanzaro e molti di questi hanno quasi tutti hanno alle spalle una produzione scientifica e molti di essi poi finiranno passando all'insegnamento universitario sono ovviamente tutti lettori di critica storica e quindi in qualche modo sono collegati al mondo di Saitta e chiaramente questo è uno spaccato parziale però è uno spaccato che non toglie nulla la sperimentazione del direttore di offrire uno spazio interattivo a quanti operano nella scuola e di collegarsi specificatamente a quello che era un debattito in corso cioè nozionismo o piuttosto come lo definisce Saitta riprende Saitta attivismo pedagogico e qui Saitta porta un suo contributo che vale la pena riprendere se è vero che si conosce veramente ciò che si fa è altrettanto vero che tutta la nostra scienza è fatta e non può non essere fatta di nozioni cioè nozioni intese come un linguaggio come base per un linguaggio condiviso e continua il frutto più concreto più reale dell'insegnamento scolastico è la formazione di un linguaggio comune ossia la possibilità di entrare in rapporto concreto con altri uomini e con altre persone tale linguaggio comune è pur sempre lo specchio di un patrimonio culturale quindi anche morale e sociale quindi in altri termini ecco che emerge il discorso dell'ascensione sociale che Saitta ha vissuto sulla propria vita sulla propria esperienza come unica garanzia per un'opportunità democratica data a ogni individuo poi Saitta scrive anche in questa approfitta di questa sezione proprio per ricordare diciamo così comunicare quello che avviene nel mondo della cultura alta ad esempio racconta gli esseri del convegno che si tenono a Milano tra il 21 e il 23 settembre il 62 proprio sull'insegnamento universitario delle scienze storiche dove sostanzialmente si dichiara a favore dell'istituzione di un corso di laurea di storia nelle facoltà di lettere e filosofia negli anni successivi negli anni 65 e 66 pubblica vari stralci sia della riforma dell'ordinamento universitario gui sia le proposte dell'ancur dell'ancui e quindi cerca di portare al mondo altro quello che sta sviluppandosi nell'ambito diciamo così della discussione sia degli organismi legati al mondo universitario sia alle possibili riforme del sistema universitario su tutto tutto questo cade il 68 il 68 è l'anno in cui Saita si trasferisce a Roma va alla Sapienza al Magistero e improvvisamente nel 68 esce un suo brevissimo articolo intitolato l'anno degli studenti in cui riprendere il titolo del libro di Rossana Sorrossanda appunto appena pubblicato e decide di intervenire anche qui con molta rispetto ad altri suoi interventi più ampi in maniera abbastanza contratta su quello che è avvenuto quello che è stata l'esperienza del 67 68 e di tutto quello che ancora si intravede sullo sfondo Saita in primo luogo tenta disperatamente di lanciare un ponte verso il mondo studentesco ci sono studenti truffaldini o balordi ma anche studenti intelligenti e sinceramente operanti mentre invece comincia proprio questa sua frattura con il mondo universitario e qui le parole sono durissime attacca quei professori serbi disposti voi per diacomagogia voi per psicopatia a tutto subire a ballare professori furbi sorgnonamento operante superare indenni la bofera cioè quindi siamo nel cuore di quella che giustamente che scuola ha definito la rottura definitiva con un'università che Saita incomincia dichiaratamente a non sentire più sua e questo senso di estraneità dal mondo universitario si concretizza anche nel passaggio con la storia di critica storica e anche qui c'è un collegamento forte con il mondo della rivista e il mondo altro e nel 69 nel 69 critica storica si chiude è una sofferenza per Saita e da una parte c'è una sua atto d'orgoglio noi intendiamo concederci solo una breve pausa dall'altra però un atto di umiltà cioè io ho bisogno che tutti gli amici di critica storica mi diano i loro suggerimenti mi diano i loro consigli perché l'eventuale ripresa cito sia l'opera di tutti e non soltanto della direzione questo da a conferma della come dire fragilità in un certo senso che sta attraversando Saita e quale due anni dopo riesce di riprendere a far riprendere la pubblicazione della rivista che però a questo punto presenta un salto una scesura perché in questo modo quello che appare da questa ripresa in poi è una solitudine una solitudine tangibile da parte di Saita Saita a questo punto si sente si dimostra attraverso la pagina di critica storica sostanzialmente sempre più lontano dal mondo universitario da quel suo mondo teorico è il sistema editoriale e proprio di quei mesi sarà quella polemica terribile con Nuova Italia per le curazioni alcune parti del suo manuale sono le carenze del CNR e soprattutto questa confusione al suo avviso che esiste fra azione politica e azione culturale e quindi in questa pagina di riapertura della rivista c'è più una denuncia di un malessere esistenziale di un pessimismo che sembra che neppure la volontà della ragione possa addolcire piuttosto che un discorso puramente di editori di direttore editoriale e altro elemento interessante è che a partire da questa ripresa diciamo un po' così la sezione cultura e organizzazione che è in qualche modo un po' il cuore di questa sua proposta editoriale diventa una cosa molto diversa è contratta sia negli spazi sia negli obiettivi e c'è soltanto un solo articolo c'è solo un articolo sul tema della didattica della storia non si parla più di questo mondo universitario cioè come cancellato e invece qui inizia la parte costruens cioè tutto incomincia a ruotare intorno all'istituto storico la sua famosa casa e una decisione importante è quella che due anni dopo nel 74 viene presa e cioè il consiglio direttivo si fa affiancare da una consulta scientifica è una consulta scientifica importante sia da un punto di vista quantitativo se ci sono circa una quindicina di studiosi ma soprattutto sono studiosi sia italiani sia stranieri c'è Lutz c'è Sobul c'è Vandruska ci sono studiosi italiani anche di generazioni diverse cioè da Moscati a un giovane della Peruta a un giovane Villari e soprattutto tutto questo viene lanciato come una pietra contro i luoghi deputati alla cosiddetta cultura alta l'istituto è il nuovo luogo di eccellenza è il luogo dove far diradare cito quelle cupe e ombre che oggi hanno in parte reso sterile e impotente la ricerca scientifica in Italia è un come dire un passaggio un passaggio scusatemi che fa quasi da corollare un articolo che sono ripreso in studi su Saitta nel 1972 se sforo vi fa un fischio per piacere grazie enciclopedia edizionari porte di ingresso o condensatori di cultura in cui lui si concentra sulla presentazione quindi sull'analisi di questi due progetti di alta divulgazione il dizionario storico politico italiano di Sestan che era stato edito a Sansoni nel 71 e l'enciclopedia dell'antifascismo e resistenza curato da Secchia ed edito dalla Pietra che è in corso ancora di edizione la disamina di Saitta è diciamo così affascinante è feroce il suo animus si esprime come elenco di annotazioni puntualizzazioni entra nel merito della scelta o piuttosto dell'esclusione di Lemmi e tutto il suo pensiero si condensa nella chiusura dell'articolo che è una chiusura durissima di cui mi permetto di leggere alcune frasi e di una nota che è ancora più diciamo così interessante proprio per il suo per la sua onestà intellettuale la conclusione dice è questa solo grazie a una piena consapevolezza sarà possibile superare l'odierno punto morte e realizzare una enciclopedia o dizionario che sia una porta aperta per una migliore comprensione della nostra storia e vita nazionale e non un semplice condensatore di frigidi dati acquisiti o un compiacente cavallo di troia con prevaricazioni politico intellettuali condensatore di frigidi dati acquisiti è il lavoro di Sestano Sestano e il suo lavoro a che cosa va scritto nella presentazione il dizionario deve essere in fondo quello che è l'opinione raccoglie quello che è l'opinione comunemente accettata in qualche modo e questa è la frase orrenda sta un po' come il buon manuale scolastico sta al trattato scientifico criticamente condotto dire questo a Saitta con tutto quello che sta per avvenire col suo manuale quello che il suo manuale per lui rappresenta che ci ha illustrato prima molto bene è chiaro che significa un pugno nello stomaco e soprattutto quello che lo fa infuriare è che le voci riportate sono voci redazionali non c'è l'autore per questo spesaite è inaccettabile dovrebbe sempre esservi un insopprimibile rapporto dialettico tra il contenuto di una voce e il suo autore pena una concezione passiva del lavoro enciclopedico l'altra parte quello di l'enciclopedia dell'antifascismo cosa è che non funziona per salita è inaccettabile il concetto che ci siano silenzi tattici ed ideologici e qui è furibondo sulla stesura dell'Emma istituto Feltrinelli questa è una nota finale che c'è nel testo dell'articolo perché schivare nella voce il nome di Gian Giacomo Feltrinelli e dire annodinamente che la biblioteca fu fondata per iniziativa privata perché rifiutarsi di riconoscere un merito innegabile del Feltrinelli stesso quello di aver reso possibile in Italia la raccolta e l'utilizzazione di un prezioso materiale di studio l'avvenuta rottura con il PC l'essere approdato verso franciulleschi lì di contestatori e curiglieri era morto pochi mesi prima non era un motivo sufficiente per ricacciare nell'oblio quanto precedentemente era stato fatto sono come dire due passaggi che mi hanno colpito proprio per questa concezione del lavoro che deve essere come dire portato attraverso critica storica alla conoscenza di una divulgazione non di massa in maniera come dire nazionale popolare per usare un termine orrendo ma di una massa consapevole di una massa capace di interpretare e di condividere quel famoso linguaggio da cui si era partiti negli anni 80 e qui mi avvia la conclusione Saitta porta un altro importante cambiamento all'interno della rivista e cioè e decide a questo punto di nominare alcune persone che costituiscono una sorta di comitato scientifico proprio perché perché a suo avviso e qui ritorna il tema dell'alterità dell'istituto rispetto a quello che è la ricerca storica come dire nelle università cioè la vera ricerca storica può essere fatta al di fuori dell'accademia perché perché in altre parole quella diciamo così università che non è più quella che lui conosceva ma quella che oggi lui ritiene che sia sul campo è un'università che è bloccata da vincoli burocratici e che ha un provoca sperpero di soldi e dove soprattutto c'è una quello che lui definisce una serrata corporativa nel reclutamento sindacale partitico democratico del personale su quello scientifico didattico in altre parole bisognava portare di nuovo la centralità negli istituti e qui il legame con la scuola che era sempre stato quel ponte fondamentale fra istruzione secondaria e docenza universitaria da Federico Chabot a Carlo Morandi da Delio Cantimoria al sottoscritto abbiamo tutti o quasi tutto percorso quella strada ma oggi l'università dispone di organici propri anche a livelli precedenti del consigliamento della cattedra del professore titolare è affetta da una grave sindrome corporativa e poco e nulla in comune tra chi svolge attività didattica negli istituti di istruzione secondaria e coloro che la svolgono nell'università critica storica è un organo di battaglia di battaglia dell'idea della cultura che ha Saitta e quindi ecco che gli ultimi passi e qui mi chiudo riguardano proprio Saitta critica storica e l'Europa cioè quello che poi domani verrà illustrato da guerra la nascita dell'associazione degli storici europei di cui critica storica diventa parte integrante perché? perché critica l'associazione degli storici europei diventano l'editore di critica storica critica storica a sua volta diventa il contenitore del bollettino dell'associazione degli storici europei che viene contestualmente a nascere siamo alla fine del percorso accademico di Saitta che purtroppo tergicamente diventerà la fine del suo percorso di uomo critica storica è a questo punto non più soltanto un progetto ha dimostrato la sua capacità di essere astrettamente legato al mondo della scuola e delle scienze in senso ampio e sempre mantenendo questo ruolo di ponte che le era stato affidato dalla sua nascita nell'89 scrive Saitta pubblica Saitta due documenti su critica storica una è la lettera di non di coniato appunto rivolta ai suoi lievi pisani a prosperi a regina pozzi in cui parla di un'ipotesi di scrivere una commedia dell'arte o la chiama definisce addirittura opera buffa in cui di nuovo derrientra questo poliedrico teatro romano e dall'altra invece lascia l'ultima testimonianza del suo grande progetto di ricerca e cioè il testo di legge del 27 luglio 89 numero 269 che dà all'istituto per il biennio 89-90 un contributo straordinario di 150 milioni di lire per un piano di ricerca e pubblicazioni per il bicentenario di rivoluzione francese ecco allora che anche qui e questo quasi l'ultimo articolo di Saitta che cosa rimarca nella legge 269 avviene una perfetta simbiosi tra volontà politica e competenza scientifica ed è cosa da non sottovalutare fino all'ultimo gli estrali il piano di lavoro per gli anni della crescenza era stato tracciato critica storica ne era il testimone come sempre purtroppo tutto questo venne a coincidere con la chiusura di due percorsi di vita l'una umana e l'altra intellettuale qual è stata critica storica grazie grazie mille per questa lucidissima ricostruzione che ci ha mostrato le origini il microfono eccomi eccomi dicevo grazie per questa lucida ricostruzione che ci ha mostrato le motivazioni iniziali della rivista che nasce da un'ipotesi come dire di contrasto all'ipertrofia degli specialismi un'opzione per l'onesto storico intellettuale che lavora come un artigiano con i mattoni e poi ha colto molto bene la crisi del 68 che porta alla fase che lui chiama di comiato sospensione e infine la come dire l'inflessione di ripiegamento che non è un ripiegamento in realtà degli ultimi anni di distacco dal mondo universitario ecco io credo che possiamo essere molto soddisfatti di questa mattinata il convegno è partito molto bene abbiamo delineato il carattere militante della figura e della storiografia di Seitta quale si è forgiato e qui devo richiamare l'articolo molto bello di Criscuolo sulla genesi dell'opera storica di Seitta alla scuola di Calogero di Russo è stato più volte richiamato ma poi si è aperto all'influenza del marxismo e senza che Seitta diventasse mai un iscritto al partito comunista ma capire l'importanza che il marxismo poteva avere nel rinnovamento degli studi storici in quella fase decisiva del secondo dopoguerra e dei primi anni 50 e come diciamo strumento risorsa per quella tensione alla storia integrale questa frase che ricorre più volte nella nella sua opera nella sua corrispondenza con Cantimori che usa un'altra frase storia globale sono come dire lemmi su cui forse dovremmo riflettere contestualizzandosi contestualizzandoli ovviamente negli scritti di Seitta e di Cantimori e nel dibattito di allora senza attualizzarli quindi questa esigenza di una storia integrale che significava un rapporto molto tormentato tra filologia e passione civile questo credo che sia quanto è emesso oggi ma quando può dirci ancora Seitta è un rapporto irrisolto tutto sommato e molte dei temi con cui Seitta si confrontava a modo suo con una serie di corpo a corpo quello della divulgazione scientifica della scrittura di un manuale di fondare una società degli storici di come dire ragionare intorno al rapporto tra quello che si fa nell'università e quello che si fa nelle altre istituzioni di ricerca sono tutti problemi con cui quotidianamente credo siamo chiamati a confrontarci forse senza essere riusciti a dare soluzioni più brillanti un'ultima cosa e poi ci meritiamo la pausa a pranzo è un'osservazione sull'uso che in questa sessione è stata fatta degli archivi l'archivio dell'archivio Saitta vero e proprio l'archivio della scuola normale l'archivio della terza ecco è molto interessante che i relatori abbiano sentito il bisogno di di attingere a queste fonti la cui potenzialità è probabilmente maggiore di quello che noi abbiamo finora ritenuto ma anche molti studiosi penso ad Alessandro Guerra i suoi studi hanno valorizzato questi archivi ecco credo questo sia un una cifra molto interessante che questo incontro ci consegna e sulla quale poi come su molti dei temi che oggi abbiamo affrontato torneremo a discutere nelle successive sessioni io penso Marcello che possiamo fermarci qui ci meritiamo la pausa pranzo a che ora diamo l'appuntamento 14 e 30 precisi puntuali 14 e 30 e io cedo volentieri a Roberto prestiti lo schermo ciao a tutti e buona pausa grazie grazie a tutti che loro che hanno fatto le relazioni a Maria Antonietta grazie di cuore grazie ancora a tutti alle 14 e 30 ci vediamo grazie 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 Ti saluto, ciao. Ciao Carlo. Eccoci. Ogni tanto cose scientifiche e non soltanto DAD. Ecco, ma tu sei ancora in servizio, io non più. Sono gli ultimi mesi. Il primo ottobre mi mettono alla porta. Poi, vabbè, a ottobre mi fanno un contrattino, farò il corso compattato per le magistrali, l'ultimo. E basta. E poi mi dedicherò a Pasquale Paoli a tempo pieno e magari a qualche altra cosa, compatibilmente con le incombenze in casa. Carlo? Buongiorno Carlo. Tu il 2 ottobre sai cosa fare? Venire via Caetani 32, secondo piano, e qui tu passerai tutto ottobre, novembre, dicembre. Veramente, veramente. Ci vengo prima per preparare, visto che non abbiamo ancora cominciato. Qual è la tempistica per consegnare il testo? Perché immagino che la registrazione sarà sbobinata. No, vorremmo fare degli atti seri. Cioè, scriviamo ex novo i nostri interventi. Sbobinare no, perché sempre quelle cose poi che vengono male. D'accordo, d'accordo. Quindi, ma siamo a giugno, diciamo a maggio, diciamo fine anno, così noi potremmo uscire. Sì, 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 d'accordo. Dovrò venire a consultare finalmente. Guarda, l'inventario Saeta è tutto messo online, le carte che abbiamo qui sono tutte messe online. Se poi c'è urgenza di un foglio in più o in meno urgentemente, facciamo lo scanner e te lo mandiamo, ovviamente. Penso che poi dovrò andare, dovrò anche vedere quello che c'è nella sua corrispondenza privata. Quella a Pisa. A Pisa, e lì è accessibile facilmente o... Sì, non so al tempo del Covid, come si dice, però non sapevo, penso di sì, perché le lettere sono lì. L'inventario è anche quello online, il catalogo dei corrispondenti è online e te lo puoi vedere. Poi sul... C'è una lettera di presentazione? Non credo proprio, no. Sobbitos si autopresenta. Forse si autopresenta. E poi c'è il... No, cosa dobbiamo? No, qui c'è tutte le carte, qualcosa c'è nel verbale del consiglio della scuola, si parla già delle lettere di Pasquale Paoli. Sì, quindi vedrai, qui troverai nei verbali. Io ho preso degli appunti, se ritrovi gli appunti te li passo, perché ho schedato gli anni dei verbali, degli anni in cui Saita... Senti, un dettaglio logistico, lì vicino c'era un albergo, un residence di suore filipini. Dove vado io? Certo, bellissimo. Le suore filipini... Sono sempre aperte? Io ci passo un giorno alla settimana, ieri sera hanno fatto un bellissimo concerto nel cortile. Bellissimo. C'era un gruppo, guarda, di musica, veramente un'orchestra straordinaria, una quindicina di elementi. Hanno fatto Rossini, hanno fatto Mozart. No, bellissimo, bellissimo. Dobbiamo prenotare con molto anticipo, immagino. Ma negli anni prima del Covid, sì, perché c'erano anche i pellegrini. In questo anno e mezzo di Covid eravamo in quattro su novanta camere. Dormivo io, ci dorme un paio di senatori, perché il senato è lì dietro, e uno che poi è il segretario di Franceschini, con cui qualche volta ho diviso il caffè dal primo mattino. Quindi in questi ultimi mesi erano quattro camere su novanta. Insomma, quando c'erano i pellegrinaggi, invece, sì, dovevi prenotare. Beh, comunque allora mi muoverò presto, perché entro giugno voglio fare una prima scappata. Si chiama Casa per Ferie, sì, dimmelo quando vuoi. Una prima scappata la faccio. Qui puoi stare dalle nove alle diciotto, diciotto meno un quarto, perché qui chiude il palazzo. Non è nelle nostre, la chiave non è nelle nostre disponibilità. No, no, vabbè, ma è più che… No, domenica venerdì, diciamo dalle otto e un quarto, sì, poi ti metti qui, poi qui è casa tua. Ormai non c'è quasi istituzione che tenga aperto così a lungo, perché almeno a Genova non… fondi, archivi e biblioteche, sezioni di conservazione hanno degli orari un po' più ridotti. Adesso sto rubando tempo alla sessione. Alessandro, devi ammettere Alessandro Guerra. Abbiamo un regista scientifico, personaggio, il pivot di tutta questa storia, studioso dell'Associazione degli Storici Europei, ecco. Ma anche il nostro moderatore, il buon Pertici. No, Roberto Pertici dovrebbe essere… Il buon Pertici c'è. Ah, ecco, è nascosto, ecco. No, no, c'è, c'è. Allora, Roberto, buongiorno, grazie ancora. Buongiorno. Sono le E31. Io ti chiederei un favore, qui il palazzo avvia la chiusura alle 17.30, cioè dobbiamo uscire da qui alle 17.30, a meno che non mi puoi avere sulla coscienza e domani mi troverete cadavere in queste stanze che viene chiuso il palazzo proprio. Non dipende da me, ma dipende dalla buona volontà dei relatori. Dalla tua autoritaria autorevolezza. E non abbiamo gli strumenti di moral suasion che in genere ci sono. Ma la tua autoritaria autorevolezza è tale. A te la parola, scusate. Innanzitutto buon pomeriggio a tutte e buon pomeriggio a tutti e visto anche questo autorevole invito del Presidente, rinuncio alle due parole che volevo dire all'inizio e cominciamo invece subito a dare la parola ai relatori. La prima relatrice del pomeriggio è la professoressa Francesca Cantù, professoressa emerita presso di Roma 3, con una relazione dal titolo Dialogo con la storiografia spagnola post-franchismo. Il colloquio Italo-Spagnolo, potere ed elite, 1977. A lei la parola. Grazie mille. Con i dovuti ringraziamenti entro anch'io direttamente in argomento. La Spagna entra nell'orizzonte storiografico di Armando Saitta molti anni prima del colloquio di Roma, passando dalla porta della biografia, quando, cioè, negli anni 52-53, si trova a svolgere la funzione di lettore d'italiano all'Università di Granada. Sarebbe difficile immaginare un luogo capace di esercitare maggiore suggestione sullo storico messinese, che forse si sente un po' in esilio, ma che cede progressivamente al fascino di un luogo, Granada, e di una storia, da Andalus alla Reconchista, cruciale per lo studio e l'interpretazione della Spagna in età moderna. È quindi giusto valorizzare due suoi importanti studi storici, che hanno sicuramente radice in quell'esperienza vitale e che sono stati forse un po' trascurati. Il primo, un saggio molto corposo e dedicato alla discussione storiografica sull'origine dell'impero spagnolo in età medievale, tema rovente nella storiografia spagnola degli anni 50, pubblicato nel 1954 sulla rivista storica italiana. Il secondo saggio, dal Regno Moro di Granada alla Granada Cattolica, è altrettanto ampio, proposto per la prima volta nella forma di dispensi universitari, ripubblicato poi dall'autore nella rivista Critica Storica nell'80, infine dato alle stampe nella sua forma definitiva da Paolo Simoncelli con il titolo dalla Granada Mora alla Granada Cattolica in croci e scontri di civiltà. Questo breve esordio mi sembra utile per comprendere che il colloquio italo-spagnolo di Roma del 77 non costituisce un epifenomeno nella vicenda scientifica di uno storico ricordato per i suoi fondamentali lavori sul giacobinismo e sulla rivoluzione francese. Il rapporto intellettuale di Saitta con la storiografia spagnola è invece profondo e affonda le sue radici in una memoria di sé e del proprio percorso di storico, quegli rimase legato da forti sentimenti ed è emblematico di una concezione della conoscenza storica fortemente ancorata alla critica storica e alla padronanza del dibattito storiografico, da cui nascono e traggono alimento, come aveva scritto nel 1954 osservazioni personali e nuove congetture legittime e feconde. Il colloquio del 77 è stato predisposto da Saitta in un quadro di grande evidenza istituzionale, ma è stato anche voluto estraneo ad ogni evento di routine nell'intento di renderne manifesta la non scontata forza innovativa nel tessuto delle relazioni scientifiche e culturali tra Italia e Spagna. È la prima volta, afferma Saitta, nella locuzione inaugurale che convergono a Roma studiosi spagnoli e italiani in un colloquio storico, in un confronto diretto delle rispettive metodologie tematiche e ottiche. Un confronto dunque fra storici e storiografie. Un filo memoriale lega la novità di questo colloquio con la tradizione propria dell'istituto storico, di cui Saitta è presidente. Filo che egli vuole riannodare, rendendolo visibile e operante. Il riferimento esplicito è alla missione scientifica Simancas, compiuta negli anni 1927-28 dalla Scuola di Storia Moderna e Contemporanea, primo embrione del futuro istituto. Missione presieduta da Pietro Egidi e che lo stesso Saitta, giunto vent'anni dopo all'istituto, aveva vissuto per sua ammissione nei suoi connotati di leggenda. Nel ricordo evocato, non senza commozione, primeggia il riferimento al lavoro promettente di Vittorio di Tocco, scomparso immaturamente, e all'eccellenza degli studi e del magistero di Federico Chabot, che avevano permesso la fioritura, scrive Saitta, di tutta una scuola di giovani studiosi attenti alla storia della Spagna e dell'Italia spagnola. L'interruzione di quella tradizione, verificatasi a partire dagli anni 60 del Novecento, è la sfida che Saitta vuole ricomporre, con una fermezza che non è già più semplice auspicio, ma progettualità ben definita. Ora l'istituto, scrive, è tornato con deliberata decisione e impegno a una ripresa, sulla base ovviamente di un'ottica più moderna, dei temi che costituiscono il nesso inscindibile tra la storia della Spagna e quella dei vari stati italiani. Esprime perciò l'auspicio che il colloquio si istituzionalizzi in incontri periodici tra storici italiani e spagnoli. Forse agisce in lui il richiamo del modello della collaborazione istituzionale già in atto dal 1965 tra la storiografia spagnola e la storiografia francese, che si era espressa nei colloqui franco-spagnoli organizzati a Madrid dall'Associazione Spagnola di Ciencias Historicas, puntualmente recensiti anche per le ricorrenze successive nell'annuario dei studios medievales da Eloy Benito Ruano, ora presente al colloquio di Roma in vestiti presidente della medesima associazione. Sembra di poter cogliere a questo proposito un'ulteriore intenzione soggiacente nel progetto di Armando Said, recuperare cioè per l'Italia una necessaria presenza, se non un vero protagonismo, nel rinnovamento della storiografia spagnola che si era profilato in modo percepibile a partire dagli anni Sessanta del Novecento e ciò proprio in una dimensione non trascurabile di concorrenza culturale con la sorella d'Oltralpe, la Francia. È un'intenzionalità che ben si raccorda con la sua convinzione che al pari dell'eccellenza nella ricerca storica si pone per lo storico come intellettuale un altro traguardo ambizioso e arduo da raggiungere, quello cioè di riuscire a promuovere e a determinare scelte di politica culturale che si connotino per la loro qualità e alimentino la presenza significativa del Paese in ambito nazionale e internazionale. È questo un impulso etico che egli vive nella sua quotidiana conduzione dell'istituto storico e che riversa anche negli obiettivi del colloquio. Si fa a questo punto fortemente suggestiva l'idea che Saita voglia considerare il colloquio come un contributo italiano in generale e dell'istituto in particolare al definitivo superamento di quell'amaro, deprimente, oscurantista e discriminante isolazionismo culturale partito dalla Spagna durante il più che trentennale regime franchiste che aveva generato una storiografia ufficiale anemica informata a una prospettiva reazionaria antiliberale. Partecipe, come scrive lo storico spagnolo Pedro Ruiz Torres in un bilancio di quel periodo, partecipe di un tale dogmatismo ideologico, isolamento, povertà intellettuale così asfissianti che poco si poteva fare in Spagna per seguire le idee e le linee di lavoro più innovatrici condotte in precedenza nel primo terzo del secolo XX. L'impoverimento scientifico e culturale che avevano contrassegnato profondamente la ricerca scientifica e la docenza universitaria, specialmente nella prima stagione del franchismo fino agli anni 50, la rottura consumatasi con la migliore tradizione storiografica spagnola antecedente, la forzata emigrazione per ragioni politiche culturali, di storici di grande allievo come Vincent Vives e Sanchez Albornoz, o la loro riduzione al silenzio, mentre prendeva posto una sequente sterile storiografia di regime, avevano fatto sì che nel lungo periodo, mi rifaccio ancora al giudizio di Torres, ciò che dominava la coscienza collettiva delle eliti intellettuali, specialmente impegnate tra gli anni 50 e 60 a combattere contro il ritardo della stereografia spagnola, fosse un comune sentimento di desastre. Di questo sentimento si alimentava una sorta di metafisica del ser de España e la convinzione di una insuperabile separatezza e sicolarità della Spagna nel quadro dei paesi europei. Il tema di questa retratezza era assunto da questi storici, contraria alla dittatura, come un fattore identitario peculiare della nazione e le sue cause erano fatte risalire agli inizi dell'età moderna e comunicate attraverso la categoria della decadenza, contraddicendo così radicalmente la retorica di un regime votatosi invece alla vuota nostalgia di una Spagna imperiale. Il colloquio di Roma si colloca però in un contesto temporale di inattesa novità e cambiamento. Dopo settimane di agonia il 20 novembre 1975 si era spento il generale franco. Si apriva così il fragile cammino della transizione, ricco di speranze e di contraddizioni. Il 15 giugno 1977 si tennero in Spagna le prime elezioni generali, dopo quasi 40 anni di dittatura, che videro la vittoria dell'Unione del Centro Democratico di Adolfo Suarez, confermato alla presidenza del governo. Il colloquio si apre il 3 novembre di quello stesso anno. La sensibilità storica di Said, la sua aspirazione e il suo obiettivo di fare dell'istituto un luogo di scelta e di elaborazione di politiche culturali significative, hanno sicuramente avuto parte nell'ideazione e nella realizzazione del colloquio, così come egli lo lascia intuire con grande garbo istituzionale quando all'apertura sottolinea che non si può tardare oltre nel prendere in considerazione la Spagna, cito tra virgolette, come uno degli assi portanti dell'Europa al chiudersi dell'età medievale e per tutta l'età moderna, il cui apporto è stato fondamentale, essenziale alla formazione dell'Europa. Sono convinto, afferma Said, che da questo colloquio verrà fuori un'ulteriore conferma che la Spagna non solo è stata, ma è elemento primario, essenziale dell'Europa e il suo è un sentimento profondo che si esprime anche in una fiducia nel futuro. E sono le sue parole. Che questa sia un'interpretazione corretta dalla visione che Said aveva del colloquio trova conferma nella risposta dell'ambasciatore spagnolo in Italia, Carlos Rawles Ficar, che nella sua veste di rappresentante ufficiale del governo e come uomo delle istituzioni, sceglie di citare apertamente la feliz evolución della politica espagnola in atto, attribuendole una forza risanatrice per il superamento delle incomprensioni e dei fraintendimenti che avevano attraversato i rapporti italo-spagnoli nei tempi precedenti, con velata allusione al bando morale, intellettuale e politico che aveva contraddistinto a lunghissima maggioranza in Italia il giudizio sulla Spagna del generale Franco. Così il colloquio viene a situarsi in un momento particolarmente opportuno, offrendosi come teatro della duplice ricchezza della storiografia italiana e di quella spagnola. Uno scambio tanto più necessario proprio quando la Spagna, constata Robles Ficar, ha intrapreso i passi necessari per concretizzare la sua integrazione nella comunità europea. Non si può dunque sottovalutare il fatto che il colloquio di Roma sia il primo che avviene dopo le libere elezioni spagnole del 77, che aprono compiutamente per la Spagna il periodo della transizione alla democrazia. Il primo pertanto che segna il superamento esplicito dell'autarchia scientifica e culturale e dell'isolamento proprio del lunghissimo regime franchista da un lato e dall'altro la presa di parola di una storiografia spagnola ancorata al nuovo quadro istituzionale. È il primo sdoganamento, se posso dire così, di una comunità scientifica di chi si vuole affermare la ritrovata libertà di ricerca e di espressioni, nell'abbandono di ogni stereotipo nazionalista e di un conservatorismo asfittico ciecamente rivolto al passato. Le contraddizioni, i silenzi, le amnesie, le amnistie che avvolgevano ancora gli intellettuali e gli storici spagnoli, permanevano numerosi e forse neppure oggi totalmente dissipati e probabilmente ne risentiva anche la delegazione di storici allora presenti a Roma. Ma il clima e in alcuni casi persino l'euforia del cambiamento era percepibile e si toccava con mano nella cordialità, a volte nella cautela rispettosa, dei rapporti umani. Se ora prendiamo in mano il corposo volume degli atti, più di 600 pagine raccolte in un numero doppio dell'annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea pubblicato nel 79, dobbiamo convenire pragmaticamente che il quadro evolutivo appena enunciato aveva ancora necessità di tempo per maturare compiutamente. L'impianto del colloquio si presenta piuttosto tradizionale, articolato con me su quattro giorni di lavoro, di lavori rispettivamente dedicati ai problemi della storia politica, della storia istituzionale, della storia socio-economica, della storia culturale religiosa. Forse il tocco saichiano sta proprio in quella parola ripetuta, problemi, che rinvia a una concezione dinamica di una storiografia sempre renovanda, dove la ricerca e la critica storica sono elementi di distinzione portanti, mai da trascurare, dove il confronto tra paradigmi, concettualizzazioni e metodologie si fa costante e dove il punto di arrivo si trova sempre un po' oltre il cammino già percorso. Gli storici spagnoli e gli storici italiani, cui erano state affidate le relazioni e gli interventi programmati, avevano biografie scientifiche e accademiche e personali assai diverse tra loro, oltre al fatto di rappresentare anche generazioni diverse. La loro scelta rispecchiava il duplice carattere scientifico-istituzionale del colloquio. Vi erano storici di punta e di chiara fama, come José Antonio Maraval, Antonio Dominguez Ortiz, Felipe Luis Martín, Rosario Villari, Giuseppe Galasso, Cesare Vasoli, medievisti che si ricollegavano al taglio cronologico dei primi studi di Seitta sulla Spagna, come il grande filologo e letterato Martín de Riccaire, Luis Suárez Fernández, già direttore della Escuela Spagnola de Historia e Archeologia di Roma fino al 76, Gio Pistarino, Francesco Giunta, storici che avevano avuto parte nella vita dell'istituto, come Giuseppe Coniglio e Ernesto Sestano, studiosi che a profilo scientifico univano quello istituzionale, come Luigi De Rosa, presidente in carica della Società Italiana degli Storici, José Luis González Novalin, vicerettore della Chiesa di Santa Merida e Monserrato a Roma e dell'annesso centro di Estudios Ecclesiasticos, Quintin Aldea del Consejo Superiore de Investigazione Scientificas, studiosi come Francisco Tomassi Valiente e Bario Caravale, già contributori autorevoli del rinnovamento della loro disciplina, la storia del diritto e la storia delle istituzioni. Infine, Seitta aveva dato spazio ad alcuni fra i suoi più giovani collaboratori, primo fra tutti Adriano Prosperi, nei cui riguardi indutrivo grande aspetto, grande stima, grande stima e grande affetto, e poi Agostino Borromeo, Paolo Simoncelli e anche la sottoscritta. Se i concetti che gli storici utilizzano per pensare alla storia sono parole nel tempo, come ci ha invitato a considerare Francesco Benigno, può essere utile a soffermarsi brevemente sul tema del colloquio e sulle due parole scelte per articolare il campo semantico del confronto tra storici spagnoli e storici italiani, potere ed elite. Il potere si presenta come uno dei fenomeni più pervasivi della vita sociale e occupa un ruolo cruciale nella politica e nelle riflessioni sulle società del passato e del presente. presente nel lessico scientifico e in quello dell'uomo della strada, ha note di sfuggevolezza. L'evoluzione delle scienze sociali nel Novecento ha reso il potere un ingrediente decisivo nello studio della stratificazione sociale, dell'elite, della leadership, conducendo progressivamente al passaggio dalla visione del potere come prerogativa del soggetto, individuo o gruppo che sia, a quella delle istituzioni, come luoghi strutturati, capaci di definire ruoli, valori, identità anche in forma conflittuale e competitiva, attraverso reti di relazioni personali, di fazioni, di partiti, di clientele. Ci si può chiedere così se queste due categorie analitiche, potere ed elite, che tanto spazio avrebbero guadagnato nella storiografia degli anni successivi, scrive nel 1995 Riccardo Garcia Carcel, viviamo in un periodo di euforia nella storiografia dell'elite, non siano state scelte proprio per la loro tendenziale fluidità e potenziale polissimia, dando forse anche un segnale di quella riconsiderazione e riarticolazione dei concetti allora monolitici di stato moderno e di assolutismo monarchico, quasi che si possa accogliere nel colloquio il tenue segnale di una transizione storiografica che si sarebbe presto resa evidente in una parte dell'Accademia. Antonio Maraval esordisce nella sua relazione proprio concentrandosi sulla definizione del concetto di elite da utilizzare in chiave storica per l'analisi dell'organizzazione del potere della fisionomia sociale della monarchia asburgica segnalando il fondamentale passaggio dal medioevo alla modernità che rese possibile il nuovo fenomeno sociale della comparsa di elite molteplici articolate grazie alla concentrazione del potere nel sovrano. È infatti la monarchia della prima età moderna a creare una omogeneità e regolamentazione di possibili canali, scrive lo storico spagnolo che conducessero una minoranza numerica non ancora gruppo storico sociologicamente definito ad approssimarsi al piano unico e sovrano del potere e ad influire su di esso. Sono elite composite plurali come analizzano anche Antonio Dominguez Ortiz e Francisco Tomassi Valiente che vanno formandosi per diverse ragioni, la desmilitarizzazione della noblesse che comporta perdita di ruolo politico e sociale, la progressiva formazione di un nuovo ceto burocratico e amministrativo legato alla concentrazione e diversificazione delle funzioni di governo, l'affermarsi di nuovi interessi e pratiche cortigiane, patronali e clientelari alimentati dalla vita di corte, l'orientamento di una domiltà minore verso l'assunzione di cariche pubbliche nelle cortes, nei consejos, nelle juntas. Si tratta complessivamente di un'elite del potere che detiene una chiara connotazione politica e che non coincide con l'elite amministrativa come precisa Maraval segnalando qui un suo punto di dissenso con l'ultima visione di Chabot della Milano spagnola. Si era chiesto Luis Martín, in che ambito si può parlare di elite? In il di tutta l'amplitud della monarquia o in relazione separatamente a alcuna di loro parti? E Maraval discute la tradizione normale obsoleta e inefficace di ricondurre un'analisi storica al paradigma castellano, vedendo nella monarquia azburgica una forma molto più complessa che la Unione di Spagna e molto più che il Stato Spagnolo. Viene così messa in scena la funzione delle varie componenti periferiche della monarchia spagnola, periferiche sì nella loro configurazione geografica rispetto al complesso peninsolare, ma non tali dal punto di vista del ruolo che potevano esercitare e che di fatto esercitarono nelle decisioni riguardanti la politica generale della stessa monarchia. Le elite che occorre studiare sono dunque non solo quelle castigliane, ma quelle aragonesi, siciliane, napolettane, genovesi, una molteplicità di soggetti e di situazioni fino ad allora troppo trascurata. Si profila in questo modo un cambio di paradigma nell'analisi delle relazioni tra Spagna e Italia spagnola, che si sarebbe consolidato nella storiografia successiva, aprendo vasti campi di indagine, con ampio successo e significativi risultati. Il cambiamento di paradigma e l'apertura di nuove cantieri di ricerca è urgente, anche per Rosario Villari, che muove una serrata critica contro quella storiografia italiana che per interpretare la storia dell'Italia spagnola ha utilizzato la categoria del dominio straniero come, cito, una sorta di lente deformante attraverso la quale è stata esaminata e in gran parte stravolta la realtà storica di quel periodo, nella convinzione ideologica e moralizzante che vi fosse una inconciliabilità di principio tra progresso civile e condizioni di dipendenza nazionale e che tendeva a mettere sotto il segno positivo qualunque movimento e tendenza di opposizione alla monarchia straniera. Occorre, secondo Villari, una clamorosa revisione storica, sono le sue parole, che ne cancelli definitivamente ogni eco, che pure egli sente risuolare ancora nell'ultimo giudizio di Federico Chabot, per il quale la storia milanese dell'età di Carlo V è, virgolettato, grigia e uniforme, con tessuta solitamente di rassegnazione al servire e di amore del proprio particolare. Resta certamente il problema del modo in cui il sentimento di una propria specifica identità collettiva e l'evoluzione della società e delle istituzioni poterno conciliarsi con la sudditanza a una monarchia straniera. In primo luogo Villari sottolinea come l'unità di indirizzo conferito dalla Spagna alle vicende italiane aveva permesso l'introduzione nelle varie realtà territoriali della penisola di aspetti qualificanti rispetto a un rafforzamento dello Stato in grado di promuovere il superamento delle forme localistiche, municipalistiche e cooperative, così che paradossalmente la fine della libertà italiana creò anche la prospettiva di una ripresa del processo di sviluppo delle istituzioni politiche e delle strutture sociali. E qui l'ultimo appunto di Villari a quella storiografia che ha frainteso e sottovalutato in parte per ragioni ideologiche e in parte per anacronismo metodologico il travaglio politico ideale che ha preparato il tentativo rivoluzionario del 1647-48. La sua conclusione è netta. Nel processo di formazione di un ceto colto e capace di esprimere l'esigenza del rinnovamento civile, il periodo spagnolo rappresenta una tappa contrastata e drammatica, non il vuoto e l'inerzia. Anche Galasso segnala la necessità di aprire nuove linee di ricerca perché non solo la storiografia spagnola è stata in linea generale poco attenta alla interferenza delle parti italiane nella politica della monarchia, ma anche la storiografia italiana ha poco frequentato le fonti che chiariscono la posizione dei governanti spagnoli di Napoli rispetto ai gruppi di potere della corte spagnola, i legami madrileni dei vicere e dei grandi funzionari di Napoli. Nel complesso però, secondo Galasso, occorre esprimere un giudizio riservato sulla vitalità della società politica italiana nel secolo XVII, nel corso del quale non ritiene ingiustificata affermare che complessivamente la storia dell'elite italo-spagnole è la storia di un fallimento di non piccola portata storica. È chiaro che l'analisi di Galasso e quella di Villari entrano fra loro in un rapporto dialettico, così come del resto si verifica per altri interventi. Varietà di vedute, di concetti analitici, di metodologie e uso critico delle fonti che il colloquio guidato da Seitta non appiattisce ma lascia coesistere, offrendole alla discussione. Ora, per ragioni di tempo, devo rinviare al mio testo scritto per proseguire nel profilo delle giornate dedicate alla storia economica, culturale e religiosa, dove però relazioni e interventi si presentano con aspetti più tradizionali, così che il confronto sui temi politico-istituzionali è sicuramente quello che richiama la maggiore attenzione anche in ordine agli sviluppi che conosceranno le storiografie spagnola e italiana. Tutto ciò fatto salvo però l'intenso e raffinato, stimolante intervento di Adriano Prosperi, la religione, il potere e le élite incontri italo-spagnoli nell'età della controriforma, che ben avrebbe meritato di essere proposto come relazione generale, dando così alle problematiche religiose e culturali un respiro di novità e di grande forza propositiva. Mi avvio alla conclusione. È indicativo il fatto che molti storici spagnoli che vi parteciparono al colloquio pubblicarono negli anni immediatamente seguenti studi e saggi che risentivano con evidenza delle problematiche che nel colloquio erano state trattate e degli scambi scientifici che lo avevano caratterizzato. E posso menzionare a titolo d'esempio Maraval, che nel 79 avrebbe pubblicato il volume Poder, Honor e Élites nel siglo XVII, dove cita espressamente il convegno di Napoli e l'Istituto Storico e Armando Sey, e simili influssi si potrebbero ravvisare in alcuni scritti di Antonio Dominguez Ortiz e di Francisco Tomasi Olliente. I promettenti spostamenti di accento, che avevano avuto luogo nelle relazioni di maggior rilievo presentate al colloquio, trovarono corpo in concreti sviluppi della storiografia italiana, maturando nell'arco di un decennio. Si tratta di un allargamento non solo tematico, ma anche geografico, come documentato ad esempio nel volume La scortesi di Reinales della monarchia spagnola, che raccoglie in modo organico gli atti del convegno pionieristico di Siviglia 2005, dove per la prima volta si sono confrontati temi di ricerca, concetti analitici e metodi di indagine nello studio comparato dell'Italia spagnola con le corti vicereali di Napoli e Palermo e dell'America spagnola, con le corti vicereali di città del Messico e di Lima. E se lo cito è solo perché mi sembra rispondere idealmente al dispiacere espresso dallo stesso Saitta di non aver potuto includere nel colloquio romano, cito, una delle due facce della Spagna dei secoli XV-XVII, la Spagna creatrice di un mondo nuovo, oltre all'Atlantico. Negli ultimi vent'anni, dal 2000 a oggi, lo sviluppo dei temi e dei problemi affrontati nel colloquio di Roma è stato dirompente. Il confronto tra la storiografia spagnola e la storiografia italiana si è aperto al dialogo e all'integrazione con la storiografia francese, tedesca, anglosassone e latinoamericana. Gruppi di ricerca italo-spagnoli e internazionali si sono istituzionalizzati attraverso progetti di ricerca nell'ambito di finanziamenti competitivi nazionali, europei e internazionali. Nella realizzazione di questi progetti ha trovato posto una pluralità di convegni, seminari, workshop, concretizzatisi in numerose pubblicazioni. Ai nomi degli storici italiani e spagnoli presenti a Roma si sono sostituiti quelli oggi altrettanto di punta di José Martínez Migliano, Manuel Rivero Rodríguez, Alvarino Álvarez Sussorio, Carlos Hernando Sánchez, Pablo Fernández Albalavejo, Aurelio Musi, Giovanni Mutto, Maria Antonietta Visceglia, Angel Antonio Spagnoletti, Gian Vittorio Signorotto. E mi fermo qui perché sono molti nomi che dovrei aggiungere, pensando anche a una generazione più giovane, appassionata e agguerrita negli studi, alla quale però vanno ricordati i pericoli di un'eccessiva frammentazione e polverizzazione degli studi, sempre in agguato. Qui si scrive la lezione imprescindibile del Magistero di Saitta, comunicata dal Colloquio Romano, una ricerca storica che non può mai disgiungersi da un sapere storiografico tendenzialmente esaustivo, critico, libero da qualsiasi presupposto ideologico, da qualsiasi criterio predeterminato, dalla debolezza intellettuale, dalla soggezione a modo effimere, dall'abuso delle specializzazioni. Qui permane il senso di mantenere vivo il ricordo e il contributo, opportunamente contestualizzati, del Colloquio del 67, voluto e governato da Armando Saitta, come un momento di passaggio culturale e storiografico, ma anche politico nel senso più nobile ed elevato, strategico non solo per l'evoluzione degli studi sulla Spagna e l'Italia spagnola in età moderna, ma anche per l'assunzione responsabile di una dimensione della cittadinanza che sia europea e tendenzialmente universale, perché ancorata alla funzione critica e civilizzatrice della conoscenza storica. Grazie mille. Ringraziamo la professoressa Francesca Cantù per questa precisa e serrata relazione che ci ha riportato a un momento che forse tendiamo un po' a rimuovere della nostra storia recente, poi recente ormai fino a un certo punto, cioè quella metà degli anni 70 in cui rientrarono all'interno della comunità culturale, politica, europea, paesi come la Spagna e il Portogallo, ma non dimentichiamo anche la Grecia che appunto con la fine del regime dei colonnelli nel 74. Quindi le ultime tracce diciamo così del passato prebellico in qualche modo tramontarono con le conseguenze culturali, politiche, economiche che la nostra collega ha molto precisamente indicato. È anche molto interessante il riferimento alla politica culturale che aveva in mente Saita, in concorrenza si potrebbe dire con la Francia, ecco se non ho capito male, cioè di riannodare subito un dialogo, un contatto con il mondo spagnolo in qualche modo, che era già presente e anche questo è stato molto opportunamente richiamato a partire dagli anni 20, dalle famose missioni di Egidi e di Chabot. Per fare queste politiche, la politica culturale è indispensabile per l'esistenza di istituti come quello di cui oggi noi siamo ospiti, ma questi istituti non possono fare da sé, insomma hanno bisogno poi di avere alle spalle un'azione di governo altrettanto chiaroveggente e consapevole di quelle che sono diciamo così le implicazioni dell'esistenza e dello sviluppo di istituti di questo genere. E qui si entra in una questione molto più complessa e la domanda se insomma la classe dirigente italiana degli ultimi decenni è stata consapevole di questo comporterebbe una grande discussione e non poche riflessioni a mare, credo. Ma possiamo ora, ringraziando di nuovo la nostra collega, anche per essere stata brillantemente all'interno della mezz'ora, diciamo che il nostro presidente le aveva in qualche modo intimato. Passiamo ora a una seconda relazione che già dal titolo, come dire, è molto promettente. La relazione di Agostino Borromeo su Armando Saitta e gli studi sull'inquisizione. A lui la parola. Grazie. Per iniziare vorrei esprimere la mia gratitudine agli organizzatori per l'invito e in particolare a Marcello Verga che mi ha aiutato a orientarmi in un mare di carte che si conservano all'istituto. Ritengo che una rievocazione della figura di Armando Saitta, come storico, come intellettuale, come promotore e organizzatore nelle iniziative culturali di vasto respiro, non sarebbe completa se non si prendesse in considerazione le sue attività in un settore particolare di ricerca nel quale egli non pretese mai di possedere alcuna particolare competenza. Mi riferisco al campo degli studi sull'inquisizione nell'età moderna. E chi tra la metà degli anni 70 e la metà degli anni 80 abbia collaborato con l'Istituto Storico Italiano, o più semplicemente ne abbia seguito l'attività, sa che mi riferisco al cosiddetto onomasticon dell'inquisizione italiana. Su questa impresa culturale incentrerò in questa sede il mio contenuto, senza tuttavia trascurare di menzionare altre iniziative che da quella ricerca trassero origine. L'importanza dell'onomastico, a mio sommesso parere, non consiste tanto nei risultati ottenuti da una ricerca inizialmente avviata, come tanti altri progetti dell'Istituto, nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Consiste piuttosto nella circostanza che Saita seppe cogliere le occasioni man mano presentatesi per proiettare l'istituzione da lui preseduta, come del resto ha dimostrato la relazione di Francesca Cantù, per proiettare l'istituto in un ambito europeo. Già il suo predecessore, Raffaele Ciasca, aveva impresso una svolta in quella medesima direzione con la creazione della serie di pubblicazioni inserite nell'ambito della collana Italia ed Europa. Saita sviluppò questo indirizzo attraverso altre iniziative di cui si parlerà successivamente, in particolare il convegno sull'Europa, fondamento, formazione e realtà del 1983. Mi pare che in quest'ultimo caso sia particolarmente significativo perché si trattava di una iniziativa radicalmente innovatrice in quanto oltrepassava per l'arco cronologico e l'ambito geografico delle tematiche affrontate le competenze istituzionali dell'istituto. Non penso che queste iniziative, che con queste iniziative Saita ambisse a farsi conoscere a un livello internazionale perché all'epoca era già uno degli storici più conosciuti anche fuori d'Italia. Il motivo ispiratore della sua strategia va piuttosto ricercato nella sua alta concezione del ruolo dell'istituto stesso e di conseguenza delle responsabilità che su di lui ricadevano nella sua veste di presidente. A riguardo valore emblematico riveste un'affermazione che si legge proprio nel carteggio riguardante l'onomastico. a uno dei suoi corrispondenti, egli spiega che l'istituzione, cito, ha per legge e per prassi il compito di far da pilota a tutta la ricerca storica nazionale nel campo della storia moderna e contemporanea, fine della citazione. Non so quanti fra i suoi colleghi di allora sarebbero stati pronti a riconoscere all'istituto e al suo presidente questo ruolo di guida a livello nazionale. La concezione di Saitta tuttavia risulta inequivocabile. Fare da pilota implicava per lui aprire nuove strade, indirizzare l'attività di ricerca verso campi non ancora o poco esplorati, mantenersi costantemente aggiornato sugli sviluppi della storiografia internazionale. Vi è un altro aspetto su quale non mi voglio soffermare, ma colpisce a distanza di tempo la circostanza che, Saitta pur essendo un puro intellettuale, interamente dedito al suo lavoro di storico, fosse in grado di destreggiarsi nei meandri della burocrazia statale e di fare affluire nelle casse dell'istituzione cospicue sovvenzioni destinate a finanziare i suoi sempre più impegnativi programmi e basti dire che nel 1980 il bilancio preventivo contemplava una previsione di entrate di ben 85.750 milioni, di cui ben 7 erano esplicitamente stati concessi proprio per finanziare l'iniziativa dell'onomastico. Per entrare nell'argomento devo precisare che la mia collaborazione alle attività dell'istituto durò dal 1976 al 1984 e quindi non posso offrire una testimonianza personale sui programmi sviluppati nel campo dell'inquisizione prima e dopo quelle due date, ma ho cercato di ricostruire la genesi dell'iniziativa e la sua apparente, il suo apparente declino. Allora, l'origine dell'onomastico, il primo riferimento a una ricerca nel campo dell'inquisizione si riviene nel verbale della riunione del consiglio direttivo del 4 febbraio 1975. In quella sede Saita illustrò e ottenne l'approvazione di un progetto di ricerca, cito, teso a realizzare un repertorio di nomi con i più ampi dati biografici, religiosi, sociali, contenente tutti i nomi di inquisiti e processati dalle varie inquisizioni che operarono in Italia. Fin qui il verbale. In quell'occasione, egli precisò che l'indagine doveva essere stesa anche agli archivi spagnoli, lui pensava all'inquisizione in Sicilia e Sardegna, ai fondi spagnoli del British Museum, a Bruxelles e a Dublino. E questo è registrato proprio nel verbale. Ecco, il riferimento ai documenti conservati negli Archive General de Wyoming di Bruxelles e nel Trinity College di Dublino, sembrano indicare che Saita avesse ricevuto informazioni da uno specialista e questo specialista, a mio avviso, fu Luciano Osbach, il quale proprio in quell'anno vinse il concorso ad allievo della scuola storica. Osbach dal 1973 aveva iniziato a inventariare, su schede molto ampie e dettagliate da lui predisposte, i singoli processi inquisitoriali conservati nell'archivio storico diocesano di Napoli. Saita, con il fine intuito che lo caratterizzava, colse il carattere originale di quella ricerca, ma ritenne che essa andava indirizzata verso un altro obiettivo, come abbiamo appena visto, vale a dire verso una schedatura nominale delle persone a vario titolo implicate nei processi. Quindi il progetto andò estendendosi ai giudici, al personale del tribunale, imputati e testimoni. Su questo suo progetto risulta che egli discusse con quello che nel carteggio è espressione ricorrente, il gruppo di Bologna, cioè Adriano Prosperi, Albano Biondi e Gabriella Razzarri. Non ho idea di cosa avvenne in quell'incontro, ma certamente orientò le scelte di Saita, nel senso che aveva già preannunciato, ma con una maggiore precisione di dettagli. E infatti, nella riunione del Consiglio Direttivo del 19 dicembre 1975, egli espone il programma, cito, per l'attuazione dell'onomastico, e qui è la prima volta che compare il termine, dell'inquisizione in Italia dal 1450 a tutto il XVIII secolo. Quella sede illustrò anche i criteri destinati a orientare la ricerca e addirittura presentò un modello di scheda da lui già predisposto e fece persino approvare i compensi che si sarebbero versati ai collaboratori. Gli scopi dell'iniziativa sono illustrati da un documento più tardo, e cioè le istruzioni per i collaboratori, da quello che ho potuto rilevare, dovrebbero risalire alla fine del 1979, ma siccome non portano data, non ne sono del tutto certo. Ma da queste istruzioni si vede come nel frattempo lo scopo si era andato ampliando, perché le istruzioni specificano che la ricerca si propone di offrire agli studiosi uno strumento di lavoro comprendente tanto l'elenco nominativo di coloro che furono in relazione con l'inquisizione, sia come parte attiva inquisitori e personale da essi dipendente, sia come parte passiva imputati con imputati testimoni e così via, quindi sia in relazione con l'inquisizione quanto con le accuse rivolte agli inquisiti e le pene ad essi combinati. Come si vede, in pochi anni lo scopo si era notevolmente ampliato e lo si deduce anche dal punto in cui egli sottolinea, mette in evidenza quali sono le fonti e anche qui la prospettiva è di respiro molto ampio. Intanto la schedatura doveva procedere parallelamente sulle fonti edite, quindi era già di per sé un campo enorme, quanto sulle fonti inedite. Ma ciò che è interessante è che tra le fonti inedite il concetto di inquisizione viene esteso, cioè la categoria meglio di inquisizione viene esteso a fonti non dal punto di vista tecnico squisitamente inquisitoriali, perché, oltre a queste ultime, era previsto lo studio delle carte dei tribunali vescovili relativi a processi in materia di fede per il periodo 1450-1650. Non so, 1450 è istituzionalmente la data dalla quale l'istituto ha competenza, perché si sia fermato a 1650, non saprei dire, ma comunque. Ma ciò che oggi colpisce di più è che era anche previsto lo studio delle carte dei tribunali laici relativi a processi in materia di fede per il periodo 1490-1542. 1542, presumo, fosse legato al fatto che è la data in cui nasce la congregazione cardinalizia dell'inquisizione e dal presupposto che a partire da quel momento, e penso che ciò corrisponda alla realtà, a partire da quel momento la congregazione cardinalizia fece di tutto per impedire che le autorità laiche interferissero in processi in materia di fede. Comunque, indipendentemente dalle date scelte, il programma era diventato amplissimo. Oltretutto viene precisato che l'istituto si riserva la possibilità di avviare la schedatura anche su altre fonti, altre fonti, facenti parte tanto di archivi pubblici quanto di archivi privati, che verranno di volta in volta indicati dai collaboratori. Sorvolo sui criteri più specifici che dovevano regolare l'attività di schedatura, ma è chiaro che queste istruzioni miravano a ottenere uno schedario omogeneo per voci. e dirò subito che la caratteristica dello schedario è che ci sono delle schede che a volte vengono chiamate schede madri o schede principali che si riferiscono all'imputato o agli imputati e quelle di rinvio che invece portano il nome dei testimoni ma rinviano alla scheda principale del processo. come ho detto, i primi coinvolti in questa iniziativa fu il gruppo di Bologna, Adinano Prosperi, Gabriella Zarri e poi Giuseppina Faramannaresi che sembrerebbe essere subentato in un periodo di poco posteriore al 75. ma Biondi che era incluso, Albano Biondi che era incluso nel gruppo bolognese aveva invece la responsabilità di coordinare i collaboratori che lavoravano nell'archivio di stato di Modena nella sezione, appunto, Inquisizione e ci fu nel tempo un avvicendamento. Un tentativo che stava molto a cuore a Saitta fu quello di creare un gruppo a Palermo con Pietro Burcarella e con la moglie Grazia Fallico che era direttrice dell'archivio di stato di Palermo nel quale si conserva un fondo sull'Inquisizione. E' bene precisare che quel fondo non contiene processi perché furono alla fine del Settecento bruciati ma si ricavano i nomi degli imputati dagli atti di sequestro e da varie cause intentate dall'imputato contro il tribunale e viceversa. A partire dal 1978 si avvia una ricerca a Udine che è coordinata da Andrea del Cole e Giovanna Paolin Fonda e che riguarda i fondi dell'archivio arcivescovile di Udine che sono in realtà per quanto riguarda l'Inquisizione i fondi dell'antico patriarcato di Aquileia. Infine a partire dal 1980 fu avviata anche la ricerca nel archivio storico diocesano di Napoli, quello su quale aveva inizialmente lavorato Luciano Osbatt e qui la struttura fu leggermente diversa perché il coordinatore fu nominato Giuseppe Coniglio che era grande amico di Saita, il quale però non procedeva alla speratura. Il vero motore di quel gruppo fu Adriano Zeni, del quale so poco, ma credo che fosse un archivista in pensione. Salto qualche passaggio. Diciamo che la svolta sul piano internazionale dell'iniziativa avvenne attraverso il contatto con Gustavo Hemmingsen e dalla corrispondenza risulta che fui io a mettere Armando Saita in contatto con questo studioso danese, il quale era in realtà un il direttore di ricerca dell'archivio danese del folklore, ma come tale aveva intrapreso una ricerca relativa alla caccia alle streghe nei Paesi baschi, dove aveva trovato una documentazione estremamente interessante riguardo all'atteggiamento tollerante e anche diciamo pure scettico nel riguardo del fenomeno della stregoneria da parte di un particolare inquisitore e questa ricerca diede luogo nel 1980 a un libro che fu poi anche pubblicato originariamente in inglese e poi tradotto in italiano, l'avvocato delle streghe. Hemmingsen, probabilmente perché risiedeva in un paese lontano dalle fonti, aveva preso una serie di iniziative, una delle quali fu di coinvolgere in un programma anche in questo caso di vasto respiro con l'appoggio della European Science Foundation di Strasburgo. questi suoi contatti sfociarono in un incontro a Parigi tra il 30 settembre e il 1 ottobre 1980 al quale fu invitato Said. in quell'occasione il ebbe modo di conoscere lui che amava la Spagna di conoscere Joaquin Perez Villanueva che nell'Università Autonoma di Madrid dirigeva un gruppo di ricerca sull'inquisizione spagnola. e del resto Perez Villanueva aveva promosso già un convegno a Cuenca del 1978 e e poi soprattutto aveva coordinato insieme a Scandel Bonetti il primo tomo e poi anche i successivi della storia dell'inquisizione in Spagna e nell'America da questi contatti nacque l'idea di fare di organizzare un convegno italo-spagnolo tra studiosi di inquisizione e questo convegno inizialmente progettato per l'autunno 1980 slittò poi al giugno 1981 ed ecco come Saita lo presenta invitando uno dei relatori di nel caso proprio programma di ricerca relativo all'onomastico nel contempo intende favorire un intercambio di informazioni tra studiosi impegnati negli studi dell'inquisizione nell'epoca moderna intercambio che consenta che consenta che consenta di fare punto sulle ricerche in corso confrontare indirizzi metodi e studiare le prospettive che lo sviluppo di tali ricerche può offrire è precisa non si tratta quindi di un convegno tradizionale ma bensì di una riunione che permetta un'ampia discussione è un proficuo scambio di idee e di informazioni non entro nei mi riservo di illustrarlo negli atti e non entro nello svolgimento del del convegno ma da quel convegno emerse chiaramente che eh vi erano profonde differenze di scelte nelle scelte nelle tematiche e nella metodologia tra il gruppo degli spagnoli e gli italiani gli italiani e in questo la relazione di di Adriano Prosperi è un esempio perfetto gli italiani seguendo l'insegnamento di Cantinuori si concentravano sulle sull'aspetto religioso sulle posizioni degli inquisiti sul dissenso religioso che poteva o non poteva emergere gli spagnoli gli spagnoli o comunque gli studiosi degli archivi spagnoli invece avevano avendo una fonte che erano che le relazioni di causa cioè le relazioni che ogni anno i tribunali dovevano mandare al consiglio supremo dell'inquisizione facevano piuttosto degli studi statistici e un esempio dato da uno studioso francese specialista dell'inquisizione di Toledo che era il primo che usasse un calcolatore elettronico quello del CNR i paesi per fare analisi quantitative e statistiche dei processi su come procedesse la ricerca non è del tutto chiaro ma appare anche dai pagamenti che vi è un certo declino nell'attività l'unico gruppo che fino all'ottantaquattro produceva un numero elevato di schede era quello di Napoli ma con la morte di Adriano Zehni nel 1984 Seitta decise di fermare di sospendere e questi sono i termini che scrive i collaboratori di Napoli sospendere la schedatura in quanto intendeva procedere e cito a un piano di revisione generale e di riordinamento del materiale finora pervenuto ciò non toglie che Seitta continuasse a interessarsi alle problematiche dell'inquisizione e infatti alla fine del novembre 1986 organizzò un altro convegno che aveva invece uno scopo lo scopo di portare sullo stesso sulla stessa tribuna due associazioni operanti in Spagna quella di Perez Sveglianoeva e un'altra che invece era stata fondata da José Antonio Scudeo e di questo convegno non si sa niente perché nemmeno il programma ho ricavato la lista dei nomi che per mantenermi nei tempi che forse ho già il suo brano comunque li ho ricavati dalla dalle prenotazioni delle stanze del Beto ma è chiaro che fu un convegno ehm organizzato all'ultimo momento perché le prenotazioni i primi inviti sono avvenuti un mese prima dello svolgimento di quel convegno e concludo ehm la storia delle ricerche legate all'onomastico è riconoscere la storia di un fallimento considerato i risultati raggiunti cioè vi sono eh sembra 23.000 schede ma mi chiedeva loro e me lo chiedo ancora adesso come intendesse Seitta gestire uno schedario nel quale si andavano accumulando appunto migliaia di schede ma se il meccanismo si inceppò non fu né per un sopraggiunto disinteresse nell'iniziativa da parte del suo ispiratore né per mancanza di risorse finanziarie ma perché non fu possibile un ricambio generazionale tra gli incaricati della schede visto tuttavia da un altro punto di vista il programma dell'onomastico insieme alle iniziative culturali da esso in generato fu un successo in primo luogo perché diede un decisivo impulso allo sviluppo in Italia di un filone di ricerca all'epoca trascurato in secondo luogo perché consentì a Seitta di collocare l'istituto da lui presieduto nella posizione di ente coordinatore delle altre iniziative europee nel campo degli studi dell'inquisizione e questa circostanza aggiunto ai convegni eh quello italo spagnolo appena menzionato quello sull'Europa vassero indubbiamente a proiettare l'istituto storico italiano in un ambito internazionale e di questo successo il merito va attribuito all'impegno e al lavoro di Armand Grazie Dobbiamo ringraziare il professor Borromeo per questa relazione veramente interessante io devo dire eh molti degli aspetti che eh il collega ha preso in in considerazione francamente non li non li conoscevo anche in relazione alla mia esperienza di qualche anno più tardi di alunno della storia dell'istituto di storia moderna della scuola di storia moderna contemporanea però la relazione di Borromeo ci mette in in ci mette davanti secondo me alcuni problemi di fondo della forma mentale che Armando sai dico su cui forse non abbiamo sufficientemente eh riflettuto si parla di marxismo non marxismo eh tra il suo rapporto con la scuola del metodo storico la scuola del metodo storico che alla scuola normale è direi costitutiva del del dna normalistico la scuola del metodo storico e la sua tradizione biobibliografica che è inutile ricordare Marcello Verga ha studiato le origini del del dizionario biografico degli italiani che è all'interno di questa tradizione Giovanni Gentile di cui oggi non si è parlato e mi dispiace e mi dispiace perché parlare di Armando Saitta senza parlare di Giovanni Gentile insomma le rimozioni sono di ogni regime si potrebbe dire ma chiudo la parentesi il 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 ma il 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 e fortunato pintore ma Onomasticon era anche un'opera di Luigi Ferrari altro normalista che si chiama Onomasticon repertorio biobibliografico degli scrittori italiani dal 1500 al 1851 ora eh eh questa diciamo così fissazione per eh imprese gigantesche in cui eh dare un po' diciamo così eh una visione complessiva ed eterna è quella tipica del merito positivistico cioè questo e questo continuo eh e che si ritrova in Saitta eh a noi quando io ero eh ci faceva fare la ricerca sulle eh cronache inedite eh che noi dovevamo andare a cercare nelle note delle riviste già pubblicate quindi era chiaramente una rivista come tutte queste del metodo storico che non hanno un futuro eh cioè perché non è possibile come dire comprendere tutto ciò che è esistito in un repertorio in un'enciclopedia in una in una in una in un elenco eccetera eccetera ma questo in Saitta c'era ecco il il per cui sono tutte imprese eh 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 molto ambiziose in cui mettevano entusiasmo personale eh però che erano evidentemente votate in qualche al di là degli effetti culturali che hanno avuto questo è eh evidente e l'importanza che che Borromeo ha sottolineato eccetera eccetera ma che erano evidentemente destinate ma anche come suo modo di fare la storia lui questo elemento erudito documentario da sempre presente le sue ricerche su Filippo Bonarroti non sono un lavoro di storia in senso come dire discorsivo del termine sono ricerche di fonti illuminazione di particolari eh eh zoomate come si potrebbe dire su riviste ma un discorso come dire organico l'ha fatto sì in alcuni profili anche diciamo divulgativi degli anni sessanta eccetera eccetera ma questo rapporto con le la tradizione biobibliografica e che era tipica delle di una certa tradizione che a Pisa viene da Alessandro d'Ancona ecco è la tradizione d'Anconiana che come dire nella scuola normale è poi giunge a Pasquale insomma è questa giunge a Pasquale eccetera eccetera e è Michele Barbie ecco sono eh sono tutti personaggi che in qualche modo eh secondo me hanno avuto una qualche un po' una forte influenza sulla sua sulla sua personalità io dicevo ho parlato prima di Gentile Gentile non soltanto eh eh fu molto vicino a Saita quando durante l'alluminato alla scuola normale ebbe una grave malattia credo una pleurite e e e dovette e dovette a lungo sospendere gli studi eccetera eccetera ma quello che stamattina parla e diceva Criscuolo a proposito delle delle differenze tra Cantimori e e Saita sul problema delle ideologie cioè eh eh Cantimori diceva che le ideologie erano questioni pratiche facevano appartenevano alla pratica alla non all'aspetto teoretico e in questo lui era crociano dicono Cantimori ma in un uomo come Gentile tutto era teoria e tutto era prassi contemporaneamente diciamo anche il poeta era pensatore ecco la poetica perché è è importante la poetica il momento in cui si teorizza un certo modo di fare poesia Gentile l'aveva eh messo in atto su Leopardi e senza i lavori Leopardiani di Gentile non si capisce Timpanaro non si capisce Luporini non si capisce le quindi e Walter Binni la poetica del decadentismo viene dalla scuola normale siamo nella seconda metà degli anni trenta di nuovo questa è una è una come dire eh credo che Saita da questo punto di vista avesse sapete Gentile poi influenzava Calogero che altro tempo influenzava influenzava Saita quindi insomma delle volte sono influenze indirette non non dirette eh ma questa questione della bibliobibliografia è una questione penso abbastanza abbastanza interessante e rilevante della sua forma mentis ecco e credo che si possa ti posso rubare un minuto per far vedere una delle schede di cui parlavamo prima so se Alessandro la ruffa mi riesce a metterlo in primo piano si riesce alzarla si vede ecco questo è una delle sono questo è quello dell'archivio di Ocesano di Napoli quindi fatto sulle fonti sono circa io non ho avuto il coraggio di contarla uno a uno ma un un conto approssimativo ma abbastanza come dire affidabile ci dà una oltre ventimila schede tratte da fonti d'archivio più altrettante ventimila ventunmila fatta da letteratura secondaria cioè come hai fatto tu per le cronache spogliare le riviste spogliare i libri e segnare i nomi di tutti coloro inquisiti testimoni qualsiasi cosa si fosse trovare le schede aspettiamo qualcuno che venga a marcello marcello verga ha dimostrato che il biografico nella prima nella prima concezione gentiliana pintoriana era una cosa sterminata ha potuto realizzarsi soltanto ridimensionandosi radicalmente perché altrimenti non aveva avvenire una una impresa di questo tipo perché non bisognava pensare a fare una voce su Dante Alighieri che insomma si trova da per tutto ma bisognava fare una la voce su il giudice di pace della della del distretto tal dei tali ecco come era accertato in una cronaca oppure in uno in una insomma era un'impresa appunto assolutamente mastodontica però insomma c'è la fiducia nella scienza e nella cultura in queste in questi aspetti cioè c'è la possibilità c'è la la fiducia di poter fare eh attraverso eh l'entusiasmo anche a perché che la che l'attività culturale possa arrivare a delle a delle conclusioni e possa arrivare a dei risultati e questo non è poco e questo non è poco allora mi sembra che durante grazie in in base al nostro programma siamo arrivati però abbastanza puntuali cioè alle sedici alla pausa caffè sono le sedici meno cinque quindi abbiamo eh anche per un caffè un certo eh eh il nostro presidente ci dice se dobbiamo riprendere alle sedici e quindici cinque minuti ah va bene per me il caffè non lo prendo quindi ecco non ho problemi allora sei e due minuti alle quattro e due minuti allora ci rivediamo ci rivediamo alle sedici sedici e due minuti perfetto grazie grazie a più tardi metto a posto la scheda vorrei che si perdesse per Agostino quando dovrà studiarle una a una non contarci vado a rimetterla a posto grazie chiedo scusa eh prego professor bidossi ecco senta eh avevo eh avevo scurato il video perché era uscito un momento eh a telefonare adesso non riesco a riprendere l'immagine eh vorrei chiederglielo io aspetti eh adesso dovrebbe avere la richiesta mi chiede è riuscito no mi chiede selezionare un'altra videocamera in impostazioni evidentemente può anche provare a uscire a rientrare provi ad uscire e a rientrare ah va bene la soluzione migliore sì grazie quindi allora per uscire mi chiede è riuscito a rendere giù a uno Grazie a tutti. 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 a tutti.